buonasera a tutti buonasera siamo qua con il grande corrado molanga ciao corrado grazie per essere qui evviva e grazie a tutti quelli che sono già collegati giugiana marea di gente il prof non ha bisogno di presentazioni semmai sono io che mi dovrei presentare spiacere sono claudio e ti ho invitato per farti qualche domanda corrado certo e io sono qui per rispondere faremo faremo un po di domande ti farò un po di domande ciò da farti e poi daremo anche spazio un po magari al pubblico che sicuramente ha delle cose delle curiosità ad esprimere delle cose che vogliono farsi rispondere io partirai con una domanda così un po una domanda tranquilla ci sono persone che ti accusano di essere un infiltrato dei servizi segreti di essere stato corrotto dei servizi segreti da poteri occulti al fine di deviare l'opinione pubblica o comunque una parte di essa verso traiettorie di dubbia moralità che cosa se vuoi rispondere a tale critica tale tale affermazione se ti senti di dire qualche cosa volentieri per carità tutte le critiche sono ben accette la domanda è strana perché se voi andate in america prendete l'aereo in america scendete e andate alla dogana alla dogana mi fanno riempire un modulo e su questo modulo sapete gli americani non sono tanto intelligenti eh c'è un modulo c'è delle domande una di queste domande è sei un narcotrafficante ecco chiaramente la gente dice ma che cazzo rispondo no anche se solo un narcotrafficante questo che cosa vuol dire vorrebbe dire che se anche io fossi uno dei peggiori criminali del mondo non sono qui a dire sì sì è vero sono un grande criminale del mondo quindi tenete presente che quello che io dico ha un peso relativo cioè bisogna o crederci o non crederci quando chi è che mi fa queste critiche ecco queste critiche iniziano nel diversi anni fa quando io esco dal centro ufologico nazionale e a farmi queste di massoneria sono gli stessi miei colleghi ufologi i quali hanno il terrore che io parli male di loro io non ho nessuna intenzione di parlare male del centro ufologico nazionale male o bene io semmai la necessità di dire quello che è successo allora il centro ufologico nazionale nella figura del dottor roberto pinotti voleva che io entrassi con lui nella massoneria inglese perché il cognato di roberto pinotti era un massone legato alle grandi famiglie monarchiche e io francamente non ne avevo nessuna voglia tanto è vero che pilotti mi dette dei delle cose da studiare perché dovremmo avremmo dovuto essere andati a a parigi a fare la cerimonia di iniziazione io presi questa roba la strappai la buttai nel cassonetto della spazzatura poi uscì dal centro ufologico nazionale per le vicende che la gente conosce perché mi sono reso conto che il centro ufologico nazionale era legato se la massoneria era legato ai servizi segreti italiani un poco che contavano poco ma soprattutto statunitensi e il servizio il port il servizio sporco lo facevano come al solito il mossad e allora decisi di di andarmene e e allora lì la necessità del centro ufologico nazionale era di chiamare cornuto il bue cioè l'asino che è il bue che chiama cornuto l'asino questa cosa perché perché io dicevo guardate che quelli sono una massa di persone di cui non bisogna fidarsi io ci sono stato 35 anni nel centro ufologico nazionale questi sono legati ho scoperto io sono uno che non l'ha scoperto subito ci ha voluto 30 anni per scoprirla questa cosa perché sono lento di riflessi però una volta che ho capito questo io me ne sono andato da lì immediatamente e subito tutti gli scagnozzi del che che erano legati alla figura del elitaria del centro ufologico nazionale che era roberto pinotti con cui eravamo amici collaboratori eccetera eccetera hanno cominciato a scagliarsi conto di me cioè hanno deciso di stare da quella parte la quindi se da quella parte la si diceva che io ero colluso con i servizi segreti con la massoneria con le cose più strane di questo universo ecco che davano a me la colpa di quello che in realtà erano loro poi si sono fatti aiutare da un paio di massoni un signore che si chiamava pecoraro che però si fa chiamare carpe oro perché pecoraro è un nome poverino che forse se lo voleva cambiare io diffido tutti tutte le persone che si vogliono cambiare il nome perché le persone che si vogliono cambiare il nome non hanno secondo me consapevolezza di se stessi e vogliono cioè spalmarsi sul sul corpo una una pellicola che li fa sembrare diversi magari onesti quando non lo sono che ne so e allora questo tizio pecoraro con un altro tizio che era il suo padrone sostanzialmente massone di 33esimo livello mi 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 volevano portare in tribunale perché io li avrei secondo loro difamati cosa che non è vero e infatti non è successo assolutamente niente cioè il giudice gli ha riso nel muso almeno tre volte ma in questo contesto io avevo fatto una conferenza a livorno parlando di ettore maiorana e avevo citato anche il centro ufologico nazionale questi signori della massoneria eh che erano in qualche modo legati da interessi comuni legati da interessi comuni si chiama collusi eh legati da interessi comuni e questi non hanno sopportato questa cosa perché gli interessi comuni erano interessi di natura ufologica cioè quando eh i giornali eh legati a a forgione eh stavano in in male situazione venivano comprati da da questi gruppi massonici i quali dopo due mesi eh invece di risanare l'azienda l'avevano data in mano a roberto pinotti e come a roberto pinotti allora non si capisce cioè non c'è più libertà di informazione perché c'è solo un'informazione mentre prima avevamo almeno una dualità di informazione dopo questa mossa massonica aveva creato solamente un centro polare che parlava degli alieni come gli pareva a lui ora siccome il centro ufologico nazionale è un centro di stato cioè l'ufologia di stato che parla di quello che lo stato vuole e io chiaramente denunciai questo fatto con un articolo eh su un giornale a quei tempi e mi ritrovo a parlare di Ettore Majorana dicendo ma che strano uno di questi massoni è anche il proprietario del brevetto della macchina di Majorana ma come mai e così questi si incazzarono e mi denunciarono per diffamazione ma una diffamazione che in realtà non ha senso perché io ho detto semplicemente ciò che era già noto a tutti cioè l'ho semplicemente sottolineato beh ma oggi sai ci si si la gente ti denuncia perché te hai detto delle pure verità cioè io potrei essere denunciato perché in questo momento dico che il Presidente della Repubblica ha calpestato la nostra Costituzione almeno cinque volte negli ultimi due anni e porca maiala però è così e io non ci posso fare niente beh ecco e allora ecco che questi signori della massoria si sono inventati che io ero un massone legato alla loggia massonica di Livorno che io manco sapevo che esistesse l'ho imparato da loro che si chiamava Franklin io non ho la più pari di idea se esiste una loggia massonica che si chiama Franklin Franklin si sarebbe chiamata secondo questo signore che si chiama Pecoraro perché Franklin è lo scopritore del parafulmine e il parafulmine voleva dire che era la loggia massonica era nascosta e questa loggia massonica non solo era una loggia massonica del gruppo americano della base militare che noi abbiamo a Livorno di Camp Derby ma sarebbe stata quella che avrebbe poi creato e pilotato la loggia massonica di Ricciogelli P2 quindi io sarei stato sostanzialmente un successivo ora e questa cosa loro la sostenevano pubblicamente io quando ricevetti la denuncia di diffamazione da questi personaggi il mio avvocato mi disse ma questi li facciamo fuori in quattro secondi e io dissi no io non voglio cioè mi metto sul loro piano io non devo sprecare energie in quel settore cioè questi evidentemente si sono sentiti cioè è lo stesso massone che dice a me che sono massone io cioè ma è pura follia questa dal mio punto di vista e allora lasciai perdere di sì ma va bene facciamo che loro facciano il loro percorso di acquisizione di consapevolezza e di coscienza si renderanno conto se questa vita gli basta delle delle cose che secondo me dal mio punto di vista sono delle merite cazzate quindi lasciai il centro ufologico nazionale questo gruppo di massoni allora assolutamente che cosa ne sia successo sicuramente saranno tramando chissà quale cosa strana che io però a me non me ne fotte un cazzo va bene va bene sì quindi possiamo dedurre insomma che il centro ufologico nazionale è infiltrato da massoneria a fine dei conti no sicuramente il dottor roberto pinotti appartiene a questo punto alla massoneria anche perché il signor pecoraro in una trasmissione su mi sembra border night che è un canale di youtube disse mi sembra border night disse che era un bravo picciotto era un sì che si comportava e che eseguiva sostanzialmente stava stava buono e faceva le cose che dovevano essere fatte volevo scusami prego volevo collegarmi a questo discorso appunto ad un altro c'è il doppio collegamento perché praticamente un uno che va invitato a questo canale che hai appena citato a stadi sta cercando di dimostrare in qualche modo insomma che steiner era anche lui colluso con una massoneria deviata ah e questo dimmi dimmi hai qualche notizia in merito perché tu io tu anche io insomma noi così che la vediamo in un certo modo veniamo duramente attaccati dagli steineriani e da quelle correnti tradizionali dell'esoterismo più tradizionale classico hai qualche nozione rispetto a steiner di una massoneria deviata o quantomeno che cosa che cosa possiamo pensare di lui non lo so steiner è un personaggio sicuramente molto interessante che con la prima di lui la madame blavatsky hanno un po aperto il mondo all'esoterismo che è sicuramente un fenomeno culturale di grande interesse che steiner fosse legato alla massoneria io non lo so il tremendo sospetto che io ho è che steiner fosse collegato al problema alienologico cioè perché una persona che dice delle cose come le dice lui dal mio punto di vista mi può sembrare ma è un'ipotesi che io faccio uno di quelli che io chiamo adotti cioè una persona che dice delle cose perché in qualche modo ha fatto delle esperienze che gli permettano di dire delle cose che se non hai fatto quelle esperienze lì quelle cose lì non le puoi dire non le puoi capire come la madame blavatsky detto questo siccome il fenomeno alieno è legato alla massoneria perché la massoneria è stata legata è stata creata dagli alieni ecco che da questo punto di vista si potrebbe dire anche che steiner aveva delle collusioni con la massoneria però questo io non lo posso dire e fosse non che fosse colluso ma che fosse ben inserito dentro le massonerie tradizionali su questo non credo che ci sia dubbio ecco ci sono molti testi che parla di questo dei suoi rapporti con la massoneria quasi parla poco di massoneria deviata e qui quindi qua appare il concetto di una persona non più integra non più integra non più integra non più intagiarri ma come come potrebbe sembrare si vorrei sottolineare una cosa dal mio punto di vista non c'è la massoneria deviata non ci sono i servizi segreti ci sono i servizi segreti c'è la massoneria che è deviata per costituzione la costituzione italiana dovete capire che nell'istante in cui si forma c'è il problema che l'italia è stata creata dai movimenti massonici sospinti si è frizzato il prof ecco ecco riprendo il discorso perché c'è stato uno stacco non c'è la massoneria deviata c'è la massoneria ecco questo cosa vuol dire vuol dire che lo stato italiano è stato creato dalla massoneria sostenuta da quella che era poi la massoneria inglese perché se non l'italia non sarebbe neanche mai esistita se non c'era la massoneria inglese c'erano delle forze che premevano perché il regno di napoli venisse eliminato ora non entriamo nei particolari storici ma era meglio avere l'italia unita e quindi distruggere il regno di napoli che allora era la regione più florida del mediterraneo sia da un punto di vista economico che da un punto di vista scientifico la prima ferrovia l'hanno fatta i napoletani questo bisogna ricordarselo era un governo fiorente quindi quando garibaldi arrivò per unificare l'italia al largo della della costa di napoli c'era la flotta inglese che era pronta a intervenire per aiutare garibaldi questo di questo non ne parla quasi nessuno ma è bisogna che questa roba sia scritta sui libri prima o poi di storia vera bene quindi è il problema è tutto legato alla massoneria quando il regno d'italia si fa la repubblica italiana si forma i massoni che hanno costruito la repubblica non possono essere considerati qualcosa di nascosto qualcosa di illegale e allora siccome un articolo della costituzione diceva che tutte le associazioni nascoste illegali erano illegali proprio perché nascoste ed erano sostanzialmente identificate come qualcosa di potenzialmente eversivo allora la massoneria uscì da questa da questo gap semplicemente dicendo che lei aveva un indirizzo abitava piazza del gesù a roma e e quindi si sapeva dove abitava e quindi non era nascosta rimane semplicemente un indirizzo rimane un elenco di massoni che sono sostanzialmente noti per facciata ma rimane anche un elenco di massoni che non sono noti per volontà della massoneria che ha dichiarato che questi nomi non li darà mai quindi da questo punto di vista io non sono al governo io non sono la meloni io non sono mario draghi io non sono conte il giorno che io vado al governo prendo la massoneria gli do un caccio nel culo e la ributto a mare bene rispetto alle critiche che vengono mosse al tuo lavoro dagli steineriani dal del esoterismo classico perché rilevò che noi avevamo a che fare con un sublime architetto e con delle gerarchie spirituali tu hai parlato di uomo primo e di conti hai parlato di predatori hai parlato di alieni e queste persone vanno su tutte le furie quando gli si dice quasi io penso che se steiner fosse vivo accetterebbe e si metterebbe a collaborare invece loro no loro criticano aspramente tutto quello che gli si mostra come come perché perché steiner dovrebbe fare il tria dei color test in amico flash comprendere che probabilmente era nel problema dell'adduzione e quindi essere un burattino in mano a qualcuno probabilmente steiner come altri ma io dico probabilmente steiner come altri che sostengono queste idee non hanno capito che noi siamo i creatori creatori dell'universo non c'è nessuno fuori che tira le fila o meglio c'è qualcuno fuori che cerca di modificare il nostro pensiero in continuazione ma siamo noi creatori dell'universo e noi da creatori dell'universo ci siamo sottoposti a questo signore che è l'elaboratore di tutta questa macchina perché dovevamo fare l'esperienza di rimanere sotto cioè la coscienza decide di fare l'esperienza del soldato semplice per poter comprendere che cosa vuol dire io lo dico lo dicevo sempre ai miei ai miei studenti per comandare bisogna aver subito lo dico sempre anche al mio figliolo per per poter comandare per poter dare degli ordine delle persone bisogna aver prima imparato a prendere un gran numero di calci nel culo perché così saprai che cosa vuol dire ecco la coscienza che è qui per fare l'esperienza di che cosa vuol dire essere un essere umano di vivere nella dualità io credo che abbia bisogno di confrontarsi con questo e quindi per quanto riguardava il discorso tuo degli arconti dell'uomo primo eccetera la coscienza ha creato la divisione per comprendere che cos'è la divisione ha creato gli dei di destra e di sinistra chiamiamoli così che creano l'universo di materia di antimateria e poi è andata da questi e gli ha detto scusa mi dividi per favore mi tagli è come se io avessi inventato il coltello e prendo il coltello e chiedo al coltello di tagliarmi perché se no io non so neanche che cosa ho creato quindi attraverso la necessità di fare l'esperienza ecco che io comprendo su di me che cos'è la dualità nell'istante in cui eccoci scusate ogni tanto se ne va la rete quando io all'uomo primo all'arconte di turno all'arconte è quella specie di finto dio che viene identificato nella pistis sofia pistis sofia vuol dire coscienza consapevole l'arconte che si vede la par la coscienza cioè la creazione di tutto andare su di lui e sottomettersi a lui dicendo per favore mi dividi che devo fare l'esperienza della dualità l'arconte non se lo fa ripete due volte ti divide ti spacca in tre un'anima una mente uno spirito sperando che te non ti riunisca mai più così l'arconte continuerà a vivere per sempre perché frizzerà ghiaccerà l'esperienza della coscienza della coscienza la coscienza non potrà mai finire la sua esperienza nell'istante in cui la coscienza finisce la sua esperienza l'arconte non serve più e viene eliminato e lui ha paura di perdere consapevolezza di sé e la sua identità un po' noi siamo gli arconti perché anche noi che cosa succede quando noi moriamo no? questo se ne può parlare abbiamo paura di morire perché? perché abbiamo paura di perdere la nostra identità abbiamo paura che dopo la morte non c'è più niente ora la fisica quantistica il mito la coscienza tutto ci porta a dire che la morte in questo universo non esiste quindi non abbiate paura hai toccato diversi argomenti diversi temi che naturalmente sono oggetto delle domande che ti farò nel corso della serata qualche d'uno ha commentato il dio delle religioni è l'uomo primo dunque Corrado sì allora noi abbiamo diversi dei di diverse altezze di diverse potenzialità il dio della religione ebraica è sostanzialmente quello che potremmo chiamare l'uomo primo cioè colui che ha a disposizione tutta l'anima e che l'ha distribuita in tutti i pezzettini che siamo noi perché noi dobbiamo fare l'esperienza della vita e della morte perché lui ha paura di farla e si rifiuta di farla quindi quando noi avremmo fatto tutta questa esperienza questa esperienza verrà raccontata all'uomo primo il quale crederà così di aver fatto l'esperienza che gli mancava ma un conto è prendere una martellata su un piede un conto è raccontarti che cosa si si patisce quando ti hai preso una martellata su un piede ecco questa è una cosa fondamentale bisogna passare avere il coraggio di vivere avere il coraggio di vivere per sapere che la morte non esiste questo è un aspetto fondamentale e qua mi dai l'assist per un paio di domande che ti volevo fare tu hai mai avuto paura? oh dio mio eh paura direi di no oh di che cosa o se c'è qualche cosa di cui hai paura cioè tu hai scoperto così tante cose hai ipnotizzato gente che ti ha raccontato delle cose incredibili ti sei trovato ad affrontare una realtà agghiacciante hai mai avuto paura di tutto questo? no 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 quando facevo le ipnosi una cosa poi ci si pensa dopo non ho mai avuto paura in ipnosi veniva fuori l'alieno veniva fuori il demone veniva fuori il diavolo veniva fuori e ti diceva te non devi lasciare stare questo soggetto che stai mettendo in ipnosi no io entro dentro di te e ti devasto e io gli ho detto prova vediamo che succede con una tranquillità che non so da dove mi viene e allora il demone si calmava e tornava dentro il corpo dell'addotto in quel momento sotto ipnosi e stava zitto si cagava sotto cioè e io compresi che io ero più forte ma la mia forza era legata alla consapevolezza che io ero e che e mi faceva comprendere che l'alieno era un povero disgraziato lo stesso aspetto che io in qualche modo vedo con i nostri governanti cioè i nostri governanti che ci possono sembrare potenti cattivi eccetera eccetera io gli trovo degli stupidi e quindi cambia il paradigma cioè perché se fossero cattivi potenti eccetera io scenderei in piazza domani mattina con una bomba a mano sotto Montecitorio e butterei questa bomba a mano invece no è una cazzata fare una cosa del genere perché lo stupido muore da solo sapete la mamma degli stupidi è sempre incinta ma gli stupidi vi posso assicurare che muoiono con una velocità superiore a quella delle persone coscienti allora prima di proseguire con le domande ce n'è una del pubblico Calogero Griffasis consiglia il tuo test perché ha fatto danni per via delle interferenze a chi muove simili obiezioni cosa vuoi dire? dunque vedete io quando io ho pubblicato le prime ipnosi e le ho pubblicate perché volevo che la gente comprendesse che cos'è un'ipnosi vera come è fatta come è costruita cosa succede qual è il pathos per quello e ho tagliato l'inizio dell'ipnosi cioè come mettevo in ipnosi un soggetto perché sapevo che se no la gente avrebbe tentato di imitare questo processo e avrebbe fatto dei danni perché l'ipnosi si può fare solo quando hai studiato degli anni non solo la parte psicoanalitica non solo Erickson non solo Adler non solo la programmazione neolinguistica di Bendel e di Grinder ma anche la fisica quantistica ecco il povero Grifasi c'era la terza elementare e poverino io non è che ho qualcosa contro le persone che hanno la terza elementare però c'è un problema tecnico cioè anche se tu credi di aver capito purtroppo non hai capito e quindi una delle cose che faceva Grifasi era subito fare una cosa per fare soldi poi si rende conto che non è in grado di mettere in ipnosi un cazzo di nessuno e allora si fa aiutare da una terza persona la quale in qualche modo dovrebbe servire da tramite per guardare nella testa delle persone e in qualche modo scoprirne l'inconscio profondo allora queste cose non hanno un minimo di valore scientifico sono delle pure cazzate Grifasi si fa ricco va in Spagna perché in Italia non glielo permetterebbero perché l'agenzia delle entrate gli farebbe un culo così con le tasse varie anche perché lui si faceva pagare mentre io il mio lavoro l'ho fatto gratis perché la consapevolezza non ha prezzo e come la scuola deve essere gratis anche il tentativo di comprendere chi sei se tu sei aiutato da qualcuno deve essere gratis l'unico problema è legato al fatto che se te non ti vuoi aiutare da solo e io ti dico guarda che te sei quello che si può aiutare da solo ma vuoi per forza insistere che qualcuno ti deve aiutare allora il tuo inconscio ti farà trovare la persona che è al tuo livello quindi ci sono persone che non hanno capito un cazzo che si trovano di fronte a Grifasi e ci sono delle persone che hanno capito qualcosa che si trovano di fronte a degli ipnologi che sanno il loro mestiere ma questo è un problema loro non è un problema mio quindi il povero Grifasi il suo problema è innanzitutto comprendere chi è comprendere se stesso perché prima di fare un'ipnosi e di guardare nella testa delle persone devi capire chi sei e il povero Grifasi non solo ha creato un gruppo di persone che lo imitano giustamente similia similibus curantur come dicono i latini cioè Dio li fa e poi la coppia ecco cioè una massa di poveri disgraziati nel senso buono cioè se te devi studiare devi capire devi comprendere perché studiare da solo non basta devi capire quello che stai facendo e poi interagire con l'altro io quando a un certo punto ho smesso di fare l'ipnosi perché ero tanto bravo mi veniva tanto bene ma perché ho smesso ho smesso perché ho capito che per fare l'ipnosi bisogna essere dei cristalli bisogna essere qualcuno che dentro di sé è perfetto perché se no in qualche modo la tua incoscienza la riversi sull'altro e potresti fare dei danni gravissimi e poi ho capito che ognuno salva se stesso non c'è un dottore che ti guarisce no? ci sei te che vai dal dottore e dici al dottore dottore come posso fare per guarirmi e il dottore te lo dice no dottore mi guarisca perché questo è un è un è un'accezione che riguarda solo i cretini siccome in Italia c'è il 75% dei cretini e l'abbiamo visto durante gli ultimi due anni di pandemia perché hanno fatto una cosa che nonostante che gli si dicesse non la fate perché crepate l'anno prof ecco scusate ogni tanto c'è qualche problema forse hai toccato un tasto dolente sì cioè la gente deve capire che allora chi è con la stupidità neanche gli dei possono nulla diceva Isaac Asimov riprendendo le parole di un filosofo greco di cui ora non ricordo il nome te non puoi andare da uno stupido e dirgli guarda che sei stupido perché queste sono le prove scientifiche leggi le guarda che è così te non puoi andare da Grifasi e dirgli guarda che l'ipnosi è un'altra cosa non è quella cosa che stai facendo te perché ci sono questi lavori scientifici sono un centinaio di pagine te te li saresti dovuti leggere forse un migliario due migliaia di pagine te da dove vieni cosa fai che titolo di studio c'hai qual è la tua specializzazione la tua specializzazione è fare soldi e per questo sei andato a fare soldi in Spagna perché in Italia non li potevi fare perché e lì si comprendono un certo numero di cose io sostanzialmente ho dato col mio lavoro lavoro a tante persone perché quando io ho smesso di fare l'ipnosi le ho pubblicate la gente in Italia si è inventata il ruolo di ipnologo cioè il ruolo di ipnologo è come uno che o l'hai studiata la cosa oppure non so che cazzo fare voglio prendere per il culo la gente come Vanna Marchi no? va bene non c'è problema però la gente lo deve sapere questo e poi c'è si tratta di malafede ovviamente ma di malafede anche in buona fede cioè le persone che sono ignoranti non sanno di essere ignoranti quindi non hanno consapevolezza dei propri limiti e questo va detto anche per le persone che hanno la migliore idea no? io sono molto sospettoso delle persone che si mettono a fare l'ipnosi dalla mattina alla sera cioè te hai studiato questo problema hai capito che cos'è sai come si fa lì comprendi anche una cosa fondamentale te non puoi aiutare nessuno c'è la gente che voglia aiutare questo a ritrovare se stesso voglia aiutare questo a comprendere le sue vite passate voglia aiutare questo a risolvere i suoi problemi io voglio aiutare questo a me ma sempre mi sono stati sempre sul cazzo le persone che ti bussano la porta perché ti vogliono vendere qualcosa se io voglio comprare qualcosa sono io che vado nel negozio no uno viene e mi rompe i coglioni a me allora di queste persone ce ne sono parecchie io e alcune mi sembrano poverine se non fossero nel problema dell'adduzione mi sembrerebbero anche buone cioè però devono capire che loro stanno facendo qualcosa che riguarda solo se stessi cioè stanno inconsciamente aiutando se stessi con l'idea di dire io voglio aiutare l'altro in realtà io non ho capito qualcosa di me è come lo psicologo l'ipnologo diventa così cioè io prendo 20-30 persone gli faccio l'ipnosi per capire attraverso i risultati dell'ipnosi cosa c'è nell'altro nel mio cliente che invece è una parte di me che io non ho capito quando io ho capito questa cosa ho smesso di fare queste cose perché ho capito che la gente deve lavorare su di sé da sola che non si può aiutare oh è un mio punto di vista io per carità di Dio non mi voglio mettere in conflitto con le persone io il mio cammino il mio cammino mi ha detto questo quindi quando mi si presenta la persona che prima faceva il poliziotto e poi fa l'ipnosi a me mi mette a ride insomma abbiamo lanciato sei venuto con con l'arsenale che grande vabbè il pubblico ti adora ti adora ti adora tanta gente corrado no no fa male fa male ecco questa è la domanda questa è la domanda tu come hai gestito questo grandissimo amore da parte della gente di tanta gente stiamo parlando di tanta tanta gente in tutti questi anni come hai gestito tutto ciò sono molto sospettoso cioè tutti questi followers qua io vorrei capire chi è che veramente ha capito qualcosa di quello che io dico perché io sono molto sospettoso su questo fatto perché la gente ha bisogno di guru no e allora siccome la religione cattolica è una scioseca fa schifo e acqua da tutte le parti ora ci abbiamo due papi il papa l'antipapa un papa vivo un papa morto il Bergoglio da una parte Viganò dall'altra allora Viganò poverino è luxato proprio si vede chiaramente che dentro di sé c'è una parte lux cioè alienologica pazzesca e il povero Bergoglio è dalla parte asura cioè proprio anche lui nel meccanismo che vuole distruggere l'umanità quindi figurati se la chiesa cattolica era una volta un punto di riferimento per i poveri stolti che erano ignoranti ignoranti nel senso buono del termine cioè non erano andati a scuola era il periodo in cui gli unici che avevano studiato erano i preti pensate e bisogna dargli atto a queste cose qua perché questa è la storia e quindi i preti poi che per tanto tempo erano gli unici che avevano studiato e avevano capito qualcosa sono stati gli unici che hanno manipolato fino ad oggi tutta la situazione ai preti si sono aggiunti i banchieri sostanzialmente cioè le grandi famiglie monarchiche e quelli che comandano attraverso l'industria e saranno due tre mila persone in tutto il mondo questi sono schiavi dell'alieno e l'alieno è sempre qualcosa di negativo negativo nel senso che si fa i suoi interessi non fa l'interesse dell'essere umano quindi qua tutti quelli che parlano dell'alieno buono che ci vuole tanto bene e che noi siamo il loro progetto e che loro ci comandano ci governano noi siamo la loro stalla ma noi siamo il loro progetto perché noi siamo più importanti di loro questo c'è scritto nel mito cioè chi è che ha anima chi è che è anima l'uomo pensate che nella Bibbia c'è scritto che gli angeli non sono animici gli angeli sono inferiori all'uomo pensate e la Bibbia è un libro che non hanno scritto gli ebrei come può pensare Biglino o qualcun altro la Bibbia l'hanno scritta l'hanno scritta non si sa bene chi ma sicuramente già siamo a livello della valle dell'Indo quindi spostiamoci di settemila anni prima prima quindi è un testo che raccoglie delle informazioni archetipiche che ci danno l'idea di quello che gli antichi che comandavano volevano che noi si credesse ecco questo è un aspetto fondamentale perché noi siamo una proprietà aliena e tutto quello che viene fatto è alieno dovete quindi io il mio messaggio è questo cioè tutte le volte che voi andate da un ipnologo che vi vuole tirar fuori da qualche problema da una guaritrice che vi guarda dentro da uno che legge le carte eccetera eccetera attenzione perché dentro quel personaggio lì ci può essere qualcosa che non è roba nostra ma che è quel qualcosa che vuole fare in modo che noi si crei una religione una religione che è la rappresentazione di un processo globalista di globalizzazione cioè la globalizzazione è fondamentale per governare l'universo il mondo prima si tentava l'alieno ha tentato di creare delle religioni monoteiste per fare in modo che tutti credessero a quella cosa dopo sarebbero intervenuti loro e non avrebbero avuto più russi da una parte e americani dall'altra uno favorevole e l'altro sfavorevole ma tutti sarebbero stati favorevoli oggi che si è capito che le religioni monoteiste non hanno attecchito perché perché l'essere umano sì è un po' stupido ma il 20% di persone animiche c'è e c'è qualcosa che sente per odore che non è così che c'è una truffa dietro una truffa la vanna marchi no? la truffa la vanna marchi si vede nella religione ora noi conosciamo la religione cattolica il cristianesimo no? dove c'è scritto che se sarai buono Dio ti darà il premio e il premio sarà la vita eterna guarda che è come l'azienda di telefonini che ti vuol vendere un oggetto che a te non ti serve perché te sei già eterno te non hai bisogno di quella roba lì quindi te stai comprando qualcosa che non ti serve questa gente qui però non lo capisce e pensa che pensare sia troppo faticoso e che quindi è bene fidarsi del pensiero di un altro e quindi queste persone sono poi quelle che guardano il festival di Sanremo cioè dei completi cretini cretini deriva da cretenne non a caso cretenne vuol dire cristiano in francese cioè gli antichi francesi quando quello lì non capisce un cazzo è perché è cretenne ecco famose regolata ti ritieni un depositario della verità no 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 anche perché se fossi depositario della verità sarei già morto cioè io sono uno che credo di essere venuto qui su questo pianeta su questo livello perché avevo prima dove ero mi dava fastidio che gli esseri umani venissero trattati così male e ho avuto la necessità di venire qui e dire porca puttana ma non vedete che le cose sono diverse ecco vengo qui faccio questa esperienza e chi stava con me allora secondo il mio modesto punto di vista voi potete pensare che io stia dicendo delle stronzate però è la mia mappa del territorio chi stava con me allora diceva cosa vai giù a fare non vedi che sono cretini non capiranno male bisogna dire che aveva ragione cioè non capiscono però io il mio sforzo l'ho fatto lo stesso perché ho creduto che lo dovevo fare e ora che l'ho fatto io sono abbastanza contento cioè era un problema mio come al solito nonni alla fine io non voglio salvare l'umanità io voglio salvare me stesso perché ognuno di noi fa solamente per sé diffidate sempre questo ve lo dico come il mio punto di vista delle persone che vi dicono ti aiuto io io ti aiuto no non esiste all'inizio però ma all'inizio comunque tempo fa volevi salvare l'umanità dopo ti sei un po' ricreduto guardate un po' intoretto questi chi li salvano non li salva nessuno però almeno qualche ostaggio ora vuoi aiutare a farlo uscire o no hai almeno questo scopo questo obiettivo questo piacere questa ambizione no assolutamente sarebbe una cazzata io dico a questo punto dopo aver aiutato tante persone creduto di averle aiutate e dopo aver capito che le persone si aiutavano da sole quelle che uscivano dal problema dell'adduzione si aiutavano da sole quelle che non uscivano non volevano essere alla fine aiutate ma preferivano rimanere all'interno della procedura aliena perché ci sono persone che attraverso la loro potente egoicità pensano di essere degli eletti non delle mucche da mungere quindi ci sono sempre delle persone che pensano che faranno e diranno delle verità c'è questo canale il poverino di Red Ronny ora che sta sparando una marea di cazzate che io non avevo mai sentito in vita mia dove si parla dell'alieno buono che ti vuole tanto bene eccetera eccetera e quella gente lì non capisce che Red Ronny è nel problema dell'adduzione e questo si è visto da una intervista che io ho fatto con lui e tutte le persone che lui incontra sostanzialmente hanno la stessa problematica e l'alieno lì c'ha una problematica particolare far credere che il problema alienologico sia una grande puttanata perché non se ne deve parlare e l'alieno che è dentro quei personaggi è che il povero Red Ronny perché Red Ronny tenta di capire se stesso cerca di portare avanti e in realtà non si rende conto che porta avanti un discorso tremendo un discorso in cui la gente poi non capirà più nulla e lì l'alieno ha vinto perché l'alieno porta avanti un discorso che ti fa capire che è tutto da ridere e l'alieno ha raggiunto il suo scopo lo capirà Red Ronny e il suo gruppo di pseudoaddotti che compaiono nelle sue trasmissioni non lo so però lui sta facendo un cammino e gli si deve dare atto di acquisizione di consapevolezza e benissimo però in questa fase sta inconsapevolmente buttando merda sulla realtà diciamo le due parole allora dai te le faccio ora due parole già c'è la gente che fa il tifo che vuole che parliamo del tunnel di luce ne parleremo sì però ora vorrai sì sì tantissima gente dai ma chiedi del tunnel ora ora ne parliamo con calma allora volevo chiederti prima di quello questi alieni buoni queste fazioni positive che la gente canalizza nell'ordine di migliaia al giorno addirittura ci sono nuovi video ogni giorno in tutto il mondo di questi pleiadiani Ashtar Sharon e queste federazioni galattiche il loro imminente sbarco ad aiutare l'umanità che cosa apprensivi di tutto questo Corrado perché questo qua è un fenomeno di massa è un fenomeno di massa certo che è un fenomeno di massa perché l'aduzione è di massa che viene cresciuto dal fatto che gli esseri umani hanno bisogno di sperare e la necessità dello sperare è sperare che ci sarà qualcuno che li salvi ecco chi pensa questo io lo devo dire dal mio profondo del cuore guardate non ve la pigliate chi pensa di essere salvato è un profondo coglione che non ha capito niente te ti salvi da solo non c'è nessuno che verrà a salvarti perché nessuno se ne strafotte di te né alieno né dio né demone che è nell'universo non gliene può fregare una mazza di te di te gli interessa solo perché tu sei una mucca da mungere e il buon latte cioè l'energia che l'essere umano ha deve essere preso dall'alieno che vive e non vuole muovere aspettiamo che si scongeli il prof allora ragazzi eccolo eccolo ancora un istante si si tranquillo prof non c'è problema l'altro canale ci sai e poi riprendiamo si parlavamo di questa della gente che ha bisogno della necessità di farsi salvare di delegare il proprio potere alle schiere angeliche una volta si delegava di più alla madonna agli angeli ai santi oggi è come se fosse stata sostituita quella delega con una post moderna addirittura questi pleiadiani maestri ascesi maestri di luce fratelli di luce e cose del genere si c'è qualcuno che ha manovrato tutto questo in modo da da deviare le credenze degli uomini allora io come ho sempre detto gli alieni che hanno creato poi le due logge massoniche più importanti gli asura e i deva sostanzialmente hanno due caratteristiche differenti cioè vogliono ciucciare l'energia dell'essere umano ma con metodologie differenti i deva quelli che vengono da vishnu gli asura vengono da da shiva i deva sostanzialmente vogliono farti credere che gli alieni sono buoni e ci vogliono tanto bene e che saranno i nostri salvatori gli asura vogliono farti credere che gli alieni non ci sono e non se ne deve parlare perché è pericoloso quindi queste due strategie differenti portano tutti gli esseri più o meno angelicati che noi incontriamo che parlano con gli alieni buoni che fanno la scrittura automatica che se sognano la madonna che hanno un'accezione positivista del dio sia esso tecnologico che religioso questi sono deva sono quelli che vengono dall'essere di luce dal lux da quello che in qualche modo è quella specie di entità luminosa che a volte ti compare come un essere piccolino luminoso in camera che ti entra nel corpo con un colpo al plesso solare e te ti senti subito da vomitare questo è quello che succede e dopo ce l'hai dentro per sempre e ti senti male ti senti male perché questo essere ti comanda ti fa credere che lui è la tua vocina interna e che tu sei una merda se non lo segui mentre se lo segui il merito è suo quindi tutto quello che sbagli è colpa tua tutto quello che ci azzecchi è merito suo sai quanti addotti mi hanno raffrontato questa storia ecco a questo punto chiaramente si innesca l'idea che in futuro arriveranno gli alieni buoni che ci salveranno dagli alieni cattivi e noi vivremo in pace questo che gli antichi cioè pseudo cristiani ebraici chiamano l'armagedon cioè la fine del mondo ma poi arriva Dio che riprende tutto in mano allora ma perché Dio non arriva subito cioè facciamo prima no? no quando dice qualcuno ma io parlo con la Madonna ecco io gli dico a questi tizi che la Madonna venga a parlare con me cioè parlo io con la Madonna come mai la Madonna con me non ci viene a parlare ecco e lì si capisce che chiaramente perché io non sono degno no? non sono degno di parlare con la Madonna la Madonna è anche una bella ragazza ti compare in camera che c'era da 15 anni magari chissà cosa succede io già che ci sono gli potrei anche saltare addosso alla Madonna magari che la Madonna abbia paura di questo che ne so sì ti ho sentito dirlo l'altro giorno e a qualche parte l'ho riso l'ho riso come un pazzo perché non viene la Madonna a parlare con me? io sono disponibile ma dal tuo punto di vista non si è mai palesato nessun alieno positivo nella storia dell'umanità nessuno? no perché il semplice fatto è che l'alieno come dicevo io fa tutto per sé come tutti noi tutti noi siamo sostanzialmente come tutte le creature dell'universo anche se non se l'alieno se tu aiuti qualcuno se tu aiuti qualcuno questo qualcuno non impara quindi gli stai togliere la possibilità di acquisire la consapevolezza necessaria per cui è venuto qui quindi l'alieno che è sicuramente più grande più importante più scientifico più consapevole di noi se questo è vero non ti deve aiutare perché se ti aiuta ti fa uno spregio quindi qualsiasi alieno viene e ti vuole aiutare devi sospettare no? quando la Meloni si dice ma aiuto io il popolo italiano devi sospettare ma come possiamo come ti sei frizzato ancora come ci sei se mi senti appena poi rispondiamo a questo sì sì ci sono come possiamo spiegare alcuni almeno alcuni miracoli possono essere legittimi ossia veri e propri miracoli veri oppure c'è sempre qualche uno dietro che trama comunque qualcosa che ti fa ti fa vivere perché poi ti toglie qualcosa perché gli serve in vita è sempre così allora la storia è molto interessante c'è uno studio ufologico che io ho letto di ufologi americani tantissimi anni fa non saprei neanche più ritrovarlo in rete che studiava le guarigioni che facevano sulle persone quindi gli alieni erano buoni perché le persone dal tumore dal cancro li guarivano con la luce li guarivano con il suono ci sono testimonianze di questo tipo in realtà quello che si scopre è che l'alieno ti guarisce perché ti ha da mungere buona e la mucca da mungere se si ammala la porto dal veterinario allora l'alieno ti vuole tanto bene e ti guarisce perché per farvi vivo e in buona salute questo è l'aspetto fondamentale il secondo aspetto è ma te quando succede qualcosa te hai un tumore e il giorno dopo ti guarisci cosa è successo è successo che tu ti sei guarito perché tu sei il creatore dell'universo tu non lo sai e però il tuo cervello questa cosa deve dare una spiegazione razionale a tutto interviene e allora pensa che la guarigione sia stata dovuta a un miracolo e quindi la signora per esempio che è andata che soffriva di tumori vari nel corpo urd perché non era neanche tanto credente il marito era credente la porta all'urde e questa signora all'urde sente una sembra di calore e gli sono ricresciuti tutti gli organi gli sono ricresciuti gli organi e la signora giustamente pensa è stata la madonna che cosa deve pensare la signora si è autoguarita la sua coscienza ha prodotto la guarigione allora non esiste nessuno studio che riguardi la storia dei guariti dopo il miracolo che cosa succede di questi non ne parla nessuno sono ancora in vita o tre mesi dopo sono crepati perché quello che secondo me succede è che se te non hai capito perché ti sei guarito ti riammali perché il problema è che tu sei il creatore dell'universo tu non lo sai però vi motivi perché devi fare l'esperienza della dualità in questo contesto quando tu ti ammali è perché all'esterno quindi sul tuo corpo proietti una serie di situazioni che tu dentro di te non hai capito e la tua coscienza te le vuole far capire da fuori e quindi tu ti ammali non comprendi che la tua malattia è provocata da te stesso nell'istante in cui lo comprendi capisci perché ti sei ammalata e in quell'istante comprendi cosa devi fare per guarire a quel punto o lo sai fare o rimani fregato allora alcuni di questi processi sono talmente inconsci che il tuo inconscio profondamente ti guarisce ma siccome te non hai capito il giorno dopo ti riammali di un'altra cosa questo è uno studio che manca totalmente e forse manca perché si comprenderebbe come la Madonna che ha salvato una persona guarendola dal tumore l'ha ammazzata tre giorni dopo con un'altra malattia per esempio persone che invece si salvano miracolosamente da un incidente stradale oppure che gli sta percorando questo io sì 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 io ora non è che vi dico che tutti gli incidenti stradali siano fatti così però mi ricordo il caso di un'addotta in questo momento mi viene in mente ma ce ne sono stati altri che andava in macchina con due figlie che aveva a un certo punto ha un urto gigantesco la macchina gli si schiaccia lei si ritrova nel campo accanto con le sue figlie e si sveglia da questa ha perso un missing time diciamo così c'è stato e sente una vocina dentro di lei che gli dice vedi se mi volevi cacciare se si trattava del lux dell'alieno lux se mi volevi cacciare io non ti avrei salvato e non avrei salvato le tue figlie ora se mi cacci la prossima volta che hai un incidente morirete tutti quanti ecco il ricatto incredibile dell'angelo custode il quale invece di essere un angelo custode è uno stronzetto ecco l'angelo custode appunto è in ogni caso una spia una 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 la spia del nemico o c'è o c'è del buono almeno in questo o non ce n'è allora buono non che io sia illuso io faccio le domande per carità buono cattivo è un concetto duale non c'è il buono e il cattivo ci sono gli esseri chiunque esseri in questo universo che tendono a dare per se stessi il meglio di se stesso allora il cosiddetto angelo del piano di sopra è qualcosa che è al di là dell'alieno è proprio sopra l'alieno e l'angelo del piano di sopra è quello che vorrebbe sostanzialmente che gli alieni non ci fossero perché così tutta l'energia se la piglia lui e gli alieni no chi è l'angelo del piano di sopra? l'angelo del piano di sopra siamo noi noi che non abbiamo avuto il coraggio di scendere su questo livello energetico noi che non vogliamo fare l'esperienza della dualità noi che abbiamo paura di morire noi che abbiamo paura però e abbiamo necessità la necessità che quelli di noi che siamo scesi ci servano per raccontarci l'esperienza della morte allora noi in questa vita passiamo attraverso quello che è il cosiddetto quando te muori questa specie di tunnel di luce in cui qualcuno ti vuole riciclare e quel qualcuno che ti vuole riciclare è sempre l'angelo del piano di sopra il quale ti dice bravo sei stato bravo ti faccio vedere tutto quello che hai fatto nella tua vita tutte le fotografie anche in ipnosi veniva fuori questo le fotografie della tua vita e poi ti mette in una stanza buia in questa stanza buia dove ci sono tutte le parti animiche pensate e nei prosi questo veniva fuori le parti animiche che si trovano lì e non sanno cosa fare ma siamo qui siamo tante siamo insieme ma è tutto buio non sappiamo perché siamo qui poi a un certo punto ogni tanto una viene presa e viene mandata via poi quando è successo a me dice la parte animica sono stata remessa in un altro contenitore io sì ho potuto scegliere a volte posso scegliere a volte no mi trovo in quest'altro contenitore e si ricomincia da capo senza avere memoria di quello che è successo prima e c'è qualcuno la parte animica lo sa che è al di fuori di questa stanza buia che regola le cose qualcuno che comanda qualcuno che a volte viene identificato come il nostro mambo cioè guarda caso un essere che viene identificato in ipnosi come un essere alto grande un antico romano con la barba tutto bianco grosso l'uomo primo il quale è colui che gestisce questa operazione allora qui ci dobbiamo rendere conto che noi ci stiamo riciclando in continuazione c'è questo riciclo e questo riciclo ha a che fare con la nostra consapevolezza perché se la nostra parte animica non capisce viene riciclata ma nell'istante in cui la parte animica sia unificata con la parte spirituale e con la parte mentale in questo contesto ha compreso che noi torniamo ad essere coscienza e non c'è più tripa per gatti dopo vedi allora l'altro giorno così ci buttiamo un attimino nell'argomento del tunnel un altro giorno ti ho sentito dire o forse era proprio ieri che il mondo è bello sono praticamente il mondo è bello ma la gente al 90% non capisce un cazzo quindi io qua non tornerò più oggi abbiamo tante persone come te che si sono rotte le balle si sono rotte i coglioni di questo mondo qui e vogliono uscire vogliono evadere cioè come se ci fosse come io in qualche modo noto anche un'esigenza di fuga da questa realtà persone che cercano una qualsiasi scappatoia pur di evadere da qui io ho scoperto come dire la faccina del tunnel di luce ho fatto un sacco di interviste di video di cose e mi è sembrato che potesse essere interessante che potesse essere un buon punto di partenza per elaborare un piano di fuga da conoscere la mappa del territorio per poterne avere come dire un buon piano di fuga oggi ho talmente tanto sviscerato e spolpato questo argomento che tra l'altro ormai mi esce dalla vecchia che sento anche il bisogno di vederlo anche con altri punti di vista perché ho la sensazione che sia troppo facile è troppo facile per essere vero quindi io vorrei spero che tu possa dire la tua mettere magari dei puntini sulle i e dare anche un impulso magari in una direzione o nell'altra a questa ricerca capisci che cosa voglio dire Corrado? sì sì capisco allora io devo fare un appunto a questa cosa noi non possiamo scappare lo scappare è qualcosa che sai io qui in Italia ci sto male l'Italia fa parte dell'Europa Unita l'Europa Unita è sotto la UE la UE è la massoneria sai cosa faccio? scappo vado in Amazzonia non è corretta questa cosa perché io porterò con me i miei problemi perché io sono il creatore del mio universo allora scappare è sempre qualcosa che non ti risolverà il tuo problema stai pure lì dove sei e cerca di risolvere il problema lì cosa voglio dire con questo? che scappare deve essere cambiata questa cosa è comprendere la cosa importante quando tu hai compreso e hai finito la tua esperienza che riguarda la dualità comprendi che noi tutti siamo una cosa unica sola tutti uni messi insieme c'è chi pensa diversamente da me da te da altri ma tutti arriveremo in fondo ad avere ad acquisire la stessa consapevolezza bene bene nel frattempo che ritorno al prof in linea c'è un sacco di gente veramente infinità di commenti naturalmente non posso passarli tutti eccoci eccoci siamo quasi va bene proseguiamo aspetto il secondo video il secondo il mio interlocutore ci sai ci sai ci sai ci sai Corrado eccoci benissimo ci sono ogni tanto abbiamo qualche piccola cosa ma è interessante ma sì ma non c'è problema l'importante è che riusciamo poi a proseguire poi sì sì cosa dicevo dunque l'importante è comprendere che l'importante è comprendere è comprendere quando ti hai compreso puoi andare oltre se no vieni riciclato perché quando sarà il momento non capirai cosa sta succedendo e vieni fregato allora cosa voglio dire che per non essere più riciclati bisogna fare quello che io chiamo il triade color test dinamico flash sicuramente ci saranno altri sistemi ma io mi sono inventato questo che mi sembra che sia funzionale la tua parte animica la tua parte mentale la tua parte spirituale attraverso una simulazione mentale che io ho messo sul mio sito la gente se la va a guardare sono 11 pagine se le leggi se le studi e lo fa in un quarto d'ora ha trovato la soluzione e in qualche modo quando la coscienza si è unita tu quando esci dal corpo che abbandoni questo corpo che è un cappotto sostanzialmente non è la tua parte animica che si farà fregare non è la tua parte spirituale non c'è la divisione c'è la tua coscienza la coscienza è la creazione la creazione non si fa più fregare da nessun tunnel di luce allora tu in una nota trasmissione quando parlassi del tunnel hai detto più o meno ecco provo a citarli un attimo ti hanno chiesto mi trovo davanti al tunnel che cosa succede e tu hai detto beh ma il problema non si pone neanche perché se io trovo davanti al tunnel lo riconosco che non è nulla di benefico lo supero con la mia consapevolezza e non ci vado non è passato tanto tempo ma ribadisci questo concetto come fa una persona a rendersi conto che quel tunnel non è nulla di buono cosa possiamo dire rispetto a questo? guardate è banale noi tutti i giorni viviamo in situazioni del genere in cui dobbiamo riconoscere un tunnel noi tutti i giorni quando camminiamo per la strada e c'è uno che ti vuol vendere l'enciclopedia te lo sai capisci immediatamente è l'esempio che faccio sempre questo qua Corrado imparare un po' con chi è vero non lo sapevo non lo sapevo è vero lo faccio sempre lo capisci che è quello che ti vuole fregare guardate i nostri politici guardate ora c'è di moda lo so la problematica di Sgarbi si vede che Sgarbi il poverino nella sua ingenuità ha fatto delle cose che non doveva fare si vede si capiva anche da prima che il suo super ego Ilman avrebbe detto Sgarbi è una persona gettata nell'inconscio avrebbe usato queste parole e lui è talmente poco consapevole di sé che non si rende neanche conto di aver fatto dei misfatti non se ne rende conto crede di aver fatto delle cose normali e evidentemente poi quando ci saranno i vari processi e le varie cose lui non si renderà conto se lo considerano colpevole di essere colpevole io ho visto una volta sapete c'era quella trasmissione su Rai 3 in cui facevano vedere i processi era ancora un periodo in cui guardavo la televisione e c'era una persona che aveva violentato una ragazza e subiva il processo e lui diceva ma io cosa ho fatto? ho violentato questa ragazza che problema c'è? cioè non si rendeva conto perché non si rendeva conto? perché la sua cultura era la femmina è una qualcosa che è una proprietà dell'uomo l'uomo può fare sulla sua proprietà quello che vuole quindi io l'ho violentata ma perché mi venite a rompere i coglioni? perché non si poteva fare? cioè ecco capite che un po' sgarbi con le sue opere d'arte mi sembra che ci abbia lo stesso problema quindi noi quando siamo di fronte a queste persone chi è consapevole e cosciente di sé lo vede immediatamente che la Meloni ha qualcosa dentro che non torna la Meloni prima dice noi usciremo dall'Europa e non vogliamo più l'euro il giorno dopo dice l'euro non si può abbandonare e noi siamo filoatlantisti ma cosa è cambiato? come mai la Meloni non ha il problema di vergognarsi per quello che ha detto prima? perché la Meloni non se lo ricorda quello che ha detto prima e perché non se lo ricorda? non se lo ricorda perché in ipnosi quando noi tiravamo fuori l'alieno e io facevo le registrazioni delle ipnosi poi dicevo al soggetto che non si ricordava nulla di quello che aveva detto in ipnosi guarda ti do il disco sul cd torna a casa e sentiti la tua ipnosi e il soggetto poi mi faceva dei feedback e mi diceva ho sentito per dieci volte la mia ipnosi e dopo ogni volta io dimenticavo tutto come mai? perché l'alieno in ipnosi lo diceva li abbiamo svuotati tutti dentro quando uno ha consapevolezza e coscienza di sé vede il tunnel e dice col cazzo che io ci vado lì dentro è in automatico io quando ho cominciato a parlare di questa cosa del tunnel ho avuto la new age su tutte le furie Corrado su tutte le furie perché la gente deve andare nel tunnel secondo loro va bene ma te io non è che voglio mettermi in un pieristallo a dire però probabilmente c'è un errore da parte tua non sai nessuno sbaglia però ognuno cerca di fare il meglio di sé quindi dire che uno ha sbagliato non è corretto però una delle cose che io credo di aver capito è che non si possano fare opere di proselitismo cioè è inutile convincere gli altri di qualcosa perché se l'altro è cretino si farà anche la quinta cosa a me non è che rinconvincere o no a me quello che più mi interessa a me è proprio la constatazione sociologica della realtà anche psicologica capire che cosa c'ha in testa questa gente per criticarti su delle cose che stai portando alla pubblica attenzione come puoi essere così attaccato al tuo credo da andare su tutte le furie se si dice che è quello in cui credi probabilmente ora te corrado per esempio se si dimostrassero che certe cose in cui tu i credi o che hai ritrovato fossero diverse da come le ritieni non accetteresti di buon grado di cambiare l'opinione o ti sei fossilizzato no 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 io non mi fossilizzo su nulla ovviamente io credo di aver ragione ma se uno mi dimostra il contrario io l'ho già fatto altre volte nella mia vita ho cambiato posizione nel giro di 24 ore non c'è nulla di male guardate quando è che uno impara uno impara quando sbaglia se hai sempre ragione non impari nulla sei hai già compreso tutto all'inizio hai compreso tutto alla fine che cosa hai imparato invece nell'istante in cui tu sbagli tra virgolette in quell'istante fai una doppia esperienza l'esperienza che ti roda le palle perché hai sbagliato e il tuo ego si sgonfia sempre di più e poi comprendi che le cose ma io infatti la mia vita ora l'ho basata sul fatto di far vedere che la scienza è una grande cagata che la storia è una grande cagata che tutto quello che c'è scritto sui libri un po' per facezie un po' per storia veramente un po' perché il potere voleva che noi credessimo determinate cose ma è tutto sbagliato cioè nessun problema c'è del buono anche in tutto questo cerchiamo di scremare le cose che sono sbagliate ma questo che cosa vuol dire mettersi nelle condizioni di dire va bene questo è il libro di testo ci sono scritte queste cose vediamo se sono vere secondo me alcune sì altre no altre non sono vere per queste motivazioni perché se te non mi dai delle motivazioni e te dici come qualcuno dice no ma Langa è un coglione spara una marea di cazzate è un affabulatore benissimo e io scrivo nei commenti mi dici per favore quali sono le cazzate che ho detto ecco ce ne fosse stato uno in 40 anni che mi ha risposto per rispondere a una delle domande clou sull'argomento tunnel non andiamo nel tunnel ma allora dove andiamo cosa facciamo questo è un altro aspetto della questione che potrebbe essere anche molto complesso noi secondo me stiamo facendo qui l'esperienza della dualità quindi comprendere che la dualità non esiste no e l'unico modo per comprenderlo è fare l'esperienza della dualità quindi alla fine dell'esperienza comprenderemo che l'unica cosa a cui l'esperienza serviva era capire che la dualità non c'è quindi probabilmente l'esperienza non serviva a nulla ma l'unico modo per capirlo era fare l'esperienza qual è l'ultimo aspetto fondamentale l'ultima barriera della dualità comprendere che cosa succede della coscienza perché la coscienza fa crea l'universo e lo crea proprio per colmare le sue lacune attraverso l'universo noi facciamo questa esperienza colmiamo le nostre lacune benissimo una volta che abbiamo colmato le nostre lacune la coscienza si riunisce e cosa fa? non fa più niente perché? è perché ha fatto tutto e allora che succede? che la coscienza muore? e qui si comprende qual è l'ultima barriera della comprensione noi crediamo che vivo e morto nel nostro cervello duale siano due posizioni diverse vivo chi è? vivo secondo la mia idea è uno che attraverso il fare si manifesta morto è uno che non fa niente e che quindi non si manifesta ma il fatto che non si manifesta non vuol dire che non c'è che è morto è invisibile ma esiste a questo punto la coscienza finale quando avrà capito tutto è viva e morta insieme e noi comprendiamo così che essere vivi o essere morti sono due stati quantici sostanzialmente della realtà quindi non ci sono due realtà c'è una realtà unica che può assumere due aspetti che è faccio oppure sto fermo questo vuol dire per noi che siamo qui in questo universo virtuale vivo o morto quindi la coscienza è viva e morta insieme da questo punto di vista questo però non deve impressionare le persone che dice allora dopo se siamo morti dopo morti nel senso che non facciamo più nulla sai ci annoiamo e forse c'è qualche altra esperienza che la coscienza deve fare e una esperienza che io credo che la coscienza debba fare è l'esperienza del divertimento sembra una cazzata però noi abbiamo fatto la giostra noi abbiamo creato questa giostra che è l'universo la giostra ci è stata tolta di mano dall'uomo primo ci è stata tolta di mano dall'alieno dall'angelo del piano di sopra dai nostri governanti che vogliono far girare la giostra come vogliono loro ma noi abbiamo creato la giostra noi siamo scesi dalla giostra perché ci hanno fatto scendere e abbiamo deciso di fare l'esperienza di vedere la giostra da fuori ma ora che abbiamo capito che la giostra l'abbiamo creata noi non ci si può fare qualche giro sopra e divertirci ecco quando la coscienza ha creato tutto ha capito tutto ma perché non fare l'esperienza del divertimento io sono d'accordo ti volevo fare questa domanda qua a proposito di questo fatto diciamo che tu ritieni che noi abbiamo creato tutto questo come si concilia se si concilia o se non si esclude una vicenda con la visione ignostica di una parte di fonte di pleroma di preesistente che si stacca per dare luogo grazie tramite il demiurgo a questa realtà qua in cui siamo in qualche modo imprigionati secondo gli ignostici si sposano si conciliano in qualche modo o si escludono la vicenda queste due visioni prof dunque il problema va visto in un modo diverso secondo me la coscienza e guardate che questo è tutto scritto nella fisica quantistica io ci ho scritto anche un libro io e dio lì c'è scritto questa cosa qui la coscienza è una cosa sola facciamo finta che sia una pallina ovviamente non lo è ma facciamo finta perché il nostro cervello così lo capisce meglio questa pallina ha la necessità di fare una cosa si divide in due palline lì nasce la dualità il buono il cattivo l'acceso lo spento la materia l'antimateria l'universo di qua l'universo di là sciva visno tutto quello che vi pare queste due palline si dividono in tanti due 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 e noi siamo uno di quella divisione ognuno di noi è un pezzettino di quella divisione nella fisica quantistica c'è scritto questo pensate che l'entropia eccoci ci risiamo aspettiamo che torni anche lui ma io ci sono prof quando vuoi parla parla pure aspettiamo che torni anche lui ma io ci sono ah perché te non mi vedi parla pure prof se mi senti parla pure perché io ci sono prof aspettiamo con fede ma io ci sono facciamo il siparietto prof io ci sono parla pure arriva arriva vedi che sono anche scritto bene ah ci sei dice ci sono leggo un messaggio ci sono non so se posso vai tranquillo io sono qua parla pure eccolo qua allora va benissimo in quel istante dunque ancora ho perso il filo però eh sì va bene poi stavo cercando di capire se c'era in qualche modo la 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 se si sposavano in qualche modo la tua visione con quella gnostica ed eravamo arrivati al punto a dire della separazione di due duali 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 e quelli che poi insomma ho capito perfettamente ok allora in questa separazione sostanzialmente c'è la natura di tutto l'universo quindi si vede una cosa fondamentale non c'è un ipotetico demiurgo che da fuori della scatola l'universo in qualche modo programma come se fosse un computer alla matrix noi che qui dentro siamo il suo videogioco a cui lui gioca come faccio a dire questo guardate la quantistica lo spiega bene c'è un problema che si chiama particle in a box particella nella scatola fate finta di avere una scatola e dentro c'è una particella beh e questa scatola è l'universo questa particella ha dei livelli energetici diversi quando la scatola si allarga come lunghezza i livelli energetici della particella si abbassano fino a tornare ad essere un solo livello energetico cioè zero questo è quello che succede che si vede dai calcoli allora mentre la scatola si allarga fate conto che la scatola è l'universo le pareti della scatola si abbassano funziona così quindi la particella potrebbe uscire dalla scatola la cosa che prima non poteva fare perché le pareti della scatola erano si dice a potenziale infinito quando la scatola si allarga e raggiunge lunghezza infinita la particella può uscire dalla scatola quindi la particella potrebbe uscire dall'universo ma per andare dove che la scatola ha lunghezza infinita questo ha un significato preciso la quantistica ti dice che il fuori non c'è c'è solamente il dentro e questo che cosa vuol dire vuol dire semplicemente che non c'è nessuno da fuori che possa in qualche modo elaborare il dentro questo lo dicevano anche gli antichi filosofi greci perché nella filosofia c'è la natura dell'universo l'essere è uno solo perché se gli esseri fossero due tra i due esseri ci sarebbe il non essere ma siccome il non essere non è l'essere è uno solo ci sono altre visioni che portano matematiche fisiche sempre alla stessa conclusione pensate a un demiurgo esterno il demiurgo esterno può essere esterno solamente se non è in contatto con questo universo perché se fosse in contatto con questo universo sarebbe interno perché tutto quello che è attaccato all'universo è l'universo quindi uno deve capire una cosa fondamentale che il demiurgo qualsiasi cosa sia non ha creato l'universo là come un atto di creazione e crea una sfera che è l'universo noi ce l'abbiamo in mente questa idea no il demiurgo qualunque cosa sia e siamo noi ha creato l'universo attorno a sé noi siamo al centro dell'universo l'universo noi siamo dentro l'universo noi siamo i creatori dell'universo quindi non ci può essere nessuno fuori che crea e manipola tutto quello che noi abbiamo a disposizione come manipolazione viene sempre da dentro e c'è qualcuno che ci manipola da dentro ma noi siamo il centro di questa creazione che noi abbiamo creato e proprio perché siamo al centro che con un po' di consapevolezza di coscienza lo vediamo bene chi è se c'è qualcuno che ci vuole manipolare e lo vediamo e lo comprendiamo e comprendiamo anche che cominciamo a comprendere che siamo noi che facciamo i miracoli quando comprendiamo che tutto quello che noi facciamo durante il giorno è un miracolo che noi abbiamo fatto la trasmissione di questa sera l'abbiamo voluta noi è perché noi siamo i creatori di questa trasmissione non andiamo neanche oltre io posso dire sto pensando mi viene in mente una persona che mi deve telefonare in questo momento vi posso assicurare che se fosse così mi suona il telefono perché io so già che la persona mi sta per telefonare ho creato io la telefonata oppure ho letto nella cassa che qualcuno mi stava telefonando questa domanda non ha senso perché l'azione e l'azione esistono solo in un mondo duale ma in un mondo primale cioè dove la dualità non c'è l'azione e la reazione la causa e l'effetto sono esattamente la stessa cosa e questo purtroppo o per fortuna lo dice anche la fisica quantistica con i suoi esperimenti hai toccato due argomenti che volevo farti le domande a proposito l'akasha i registri akashici che cosa puoi dirci rispetto a questo corrado ma e noi abbiamo dunque noi gli antichi già si sono resi conto no l'akasha è una cosa che non abbiamo inventato noi l'hanno inventato gli antichi di anni soprattutto gli induisti i quali avevano capito determinate cose ma che con i loro prerequisiti di allora non riuscivano a spiegare perché la quantistica non esisteva e dopo la quantistica fra qualche migliaio di anni esiste anche una cosa migliore va bene ma ora noi abbiamo la quantistica allora poi viene per esempio vengono tutti i filosofi che insomma in qualche modo cercano di descrivere che c'è qualcosa attorno a noi che in qualche modo ci collega tutti quanti una specie di memoria akashica una biblioteca di Alessandria unificata nell'universo poi c'è il cosiddetto effetto farfalla c'è una farfalla che vola a New York nel 1950 e questo evento viene collegato a un terremoto che ci sarà 40 anni dopo su Marte te dici ma non ha senso a questa cosa invece il senso ce l'ha ed è un senso matematico preciso poi viene fuori Sheldrake il professor Sheldrake il quale si inventa il campo morfogenetico e dice guardate che siamo tutti collegati da qualcosa che è questo campo morfogenetico per cui c'è la teoria dell'ultima scimmia che dice che se una scimmia in una regione del mondo impara con un sasso a rompere una noce di cocco stranamente un'altra scimmia di un'altra tribù a 4.000 km di distanza immediatamente ha imparato la stessa cosa questo vuol dire non solo che c'è qualcosa che qualcuno ha anche chiamato neuroni specchio che in qualche modo tu come pensi una cosa quell'altro ha ricevuto informazioni da te anche se lui non ha fatto niente allora questa cosa rigettiamola sulla realtà moderna e comprendiamo una cosa fondamentale che noi siamo parte di una cosa unica noi siamo tutti parte di un'unica cosa e questa cosa vi posso assicurare che sulla base di miei studi insomma delle mie ricerche si chiama forza di gravità cioè la forza di gravità è una cosa che ha a che fare con il fatto che la terra attragga le mele come diceva Newton si credeva così una volta poi è venuto Einstein che ha detto no c'è la piegatura dello spazio-tempo la forza di gravità è una proprietà emergente della piegatura dello spazio-tempo guarda come l'ho detta bene no detta così poi la gente neanche che cosa vuol dire il problema è che la NASA stabilisce che lo spazio-tempo non si piega non si piega per niente è rigido e allora ecco che viene fuori l'idea dell'universo olografico e nell'idea dell'universo noi viviamo sostanzialmente in un universo che è una finzione ma finzione non vuol dire finto nel senso che non esiste vuol dire che noi creiamo lo spettacolo noi siamo i creatori dello spettacolo siamo i registi e siamo gli attori siamo lo schermo televisivo siamo il proiettore del film e siamo anche gli spettatori di questo film insieme siamo tutti e questo schermo grafico è come un palloncino di gomma ognuno di noi è un atomo del palloncino di gomma una molecola del palloncino di gomma quando noi ci soffiamo dentro a questo palloncino di gomma il palloncino si tende si tende perché il palloncino tende a schiacciarsi questa è la forza sarebbe la forza ma quello che succede è che quando noi ci muoviamo come pezzettino di gomma spostiamo tutti gli altri pezzettini di gomma che sono attaccati a noi e quindi in realtà io quando mi alzo da questo divano e andrò di là sentirò il peso del fatto che ci sono altri oggetti che in qualche modo mi fanno sentire la loro presenza questo l'aveva studiato un fisico che si chiama Mach che è tedesco nel 1860 e aveva detto che se l'universo fosse fatto di una cosa sola questa cosa sola si potrebbe sbattere dappertutto che non sentirebbe nessuna forza che la spinge ma se gli oggetti in quell'universo fossero due allora quando io sposto un oggetto ecco che l'altro sente che io ho spostato l'altro oggetto sapete cosa vuol dire? vuol dire che i due oggetti si scambiano delle informazioni e queste informazioni sono l'entropia e l'entropia questo lo dice un fisico che si chiama Maldasena e che si chiama Verlinde e che hanno studiato l'universo lografico quindi il sentire che io quando mi muovo sposto sono attratto da altre cose che sono in questa stanza fino a pensare alle stelle lontane l'infinito nel cielo perché questo è il calcolo che poi Einstein ha fatto pubblicandolo sul lavoro scientifico prima della sua teoria della relatività quindi è tutto già stato pubblicato scientificamente questo vuol dire una cosa fondamentale e noi siamo una cosa sola siamo tutti appiccicati insieme e quando ci spostiamo sentiamo che l'altro in qualche modo ci trattiene facciamo fatica questo cosa vuol dire? vuol dire che la forza di gravità è una forza coscienziale cioè è legata all'unica cosa che esiste che è la nostra coscienza noi siamo una cosa sola ecco poi ci sono diverse te la farò dopo questa domanda qua perché sennò ora rompe le scatole ma noi viviamo dentro una specie di hologramma in una simulazione giusto? sì che è anche energivora e predatoria no direi di no perché una delle cose che deve essere chiara è che l'universo così come è fatto è un sistema termodinamicamente non chiuso ma isolato cioè non può scambiare con l'esterno niente perché? perché l'esterno non c'è bueno allora questo cosa vuol dire? che tutta l'energia del nostro sistema è sempre la stessa e non cambierà mai cioè localmente te puoi avere un pezzo di roba che si scalda ma da un'altra parte ci sarà qualcosa che si raffredda perché il conto deve sempre essere lo stesso perché se non fosse così le leggi della termodinamica e della simmetria non verrebbero più rispettate quindi il secondo principio della termodinamica che è un principio dice delle cose precise allora questo che cosa vuol dire? vuol dire che non c'è nessun predatore ma vuol dire anche un'altra cosa che quant'è l'energia totale dell'universo? che valore ha? l'energia totale dell'universo ha un valore preciso zero l'universo nasce dal niente muore che avrà energia zero e durante tutto il suo percorso la somma dell'energia di tutto l'universo è zero cioè l'universo alla creazione non è costato nulla non è come il ponte sullo stretto di Messina non è costato nulla e quindi noi non abbiamo nessuna dispersione di energia c'è la materia con l'energia positiva c'è l'antimateria per definizione con l'energia negativa certo l'energia negativa come dove non esiste l'energia negativa e allora mi si deve far vedere che Einstein ha preso una cantonata della Madonna ma come Einstein l'ha presa Maxwell e altri ne hanno avuto il premio Nobel ma siccome il premio Nobel l'hanno dato anche ai più cretini ultimamente evidentemente se hai preso un premio Nobel non hai detto che tu abbia detto la verità prendiamo coscienza di questo fatto allora Einstein considera la sua formula E uguale mc al quadrato che viene da un quadrato E al quadrato uguale m2c alla quarta lui estrae la radice quadrata ma la radice quadrata ha due valori uno positivo e uno negativo e con lo negativo che fine ha fatto l'energia l'energia non so che cos'è quindi non la tengo in considerazione e invece ora i cosmologi si trovano a fare la radice negativa che ci sono lì andiamo che ritorno al prof eccolo eccolo ci sei? bene bene quindi questo voglio dire e sono tutti lavori scientifici che uno può andare a vedere ci si può discutere sopra però la cosa è evidente c'è la parte entropica la parte sintropica dell'universo non voglio entrare in dettagli complicati però sostanzialmente nessun predatore da un punto di vista predatorio il predatore che potrebbe venire a succhiarci l'energia a noi dal punto di vista del secondo principio della termodinamica la piglia in quel posto perché ci sarà qualcun altro che poi gli prenderà l'energia a lui quindi tutto torna sempre a zero l'unico modo di comprendere questa cosa è di non essere né predati né predatori e l'unico modo per avere questo ruolo che è un ruolo intermedio il ruolo è avere consapevolezza e coscienza di chi sei se te sei Dio se te sei il creatore dell'universo se te puoi fare i miracoli se te sai che li puoi fare non ha più nessuna ragione fare i miracoli i miracoli li fanno solo gli stolti che hanno bisogno di far credere agli altri che loro sono esseri superiori figure come Sai Baba Gesù Cristo sono personaggi pericolosi se te sai fare i miracoli non hai bisogno di fare i miracoli se hai bisogno di fare i miracoli è perché hai un bisogno ma se hai un bisogno vuol dire che hai la necessità la necessità di fare qualcosa se hai una necessità vuol dire che te non sei Dio perché Dio cioè noi non abbiamo in realtà nessuna necessità se siamo consapevoli e coscienti di questo domanda su libero arbitrio e karma noi siamo liberi di prendere decisioni Corrado è tutto predeterminato perché in qualche occasione hai detto che la nostra vita si svolge come dentro un CD che è già tutto quanto registrato all'interno di questo CD allora noi allora che cosa significa questo che è tutto già scritto allora vediamo se riesco a spiegarla bene questa cosa noi abbiamo due possibilità una a vedere tutte le cose da dentro l'universo e una a vederla sostanzialmente da fuori ammettiamo di poterla vedere per un attimo da fuori ma il fuori non c'è allora se la vediamo da dentro dentro c'è la dualità quindi noi siamo i creatori dell'universo e se siamo i creatori dell'universo noi possiamo creare decidere quale delle tante porte io possa voglia debba aprire del mio futuro per fare quel tipo di percorso lì in realtà la fisica quantistica dice perché premelo bell Alan Aspect che io cito spesso lo dice l'universo è non locale cioè non esiste nello spazio ne il tempo nell'energia se non esiste il tempo l'inizio dell'universo è anche questo istante è anche questo istante la fine dell'universo che cosa vuol dire vuol dire che se io da dentro credo di poter creare gli eventi da fuori vedo che l'evento creativo è stato uno solo un istante solo e in quell'istante io ho creato con la mia volontà ma in quell'istante quell'istante è anche questo quindi io anche in questo istante posso creare che cosa vuol dire vediamolo da un altro punto di vista io ho fatto la creazione in un colpo solo all'inizio dell'universo ora decido quale di tutte le creazioni che ho fatto voglio scegliere io ho creato tutte le porte all'inizio dell'universo e ora attimo per attimo minuto dopo minuto scelgo quale di tutte le porte che ho creato voglio aprire questo è l'aspetto fondamentale quindi sostanzialmente dal mio punto di vista della realtà virtuale io in questo istante non sto realmente creando sto scegliendo quale parte della creazione utilizzare ora ho una domanda che praticamente c'è un po' di dibattito intorno a questo Corrado ci sono molte persone ricercatori che ritengono che l'anima sia in qualche modo fornita dall'uomo primo dal demiurgo al fine di farti fare l'esperienza e poi alla fine di imprigionare lo spirito proveniente dalla fonte per farti fare l'esperienza e poi farla riciclare ancora e ancora cosa ti viene in mente rispetto a questo? ma nel 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 mito ebraico nei testi antichi ebraici c'è questa anima che è l'anima totale l'uomo primo ha l'anima totale che poi ha diviso in tanti animelle che ha distribuito agli esseri umani per poi riprendersene bisogna tenere presente che il popolo ebraico non ha una sua cultura la cultura del proprio popolo ebraico viene dalla cultura egizia la cultura egizia poi veniva da una cultura atlantidea sostanzialmente quindi all'interno di quello che è il modus che hanno gli ebrei di vedere questa cosa c'è il fatto che questa anima dell'uomo primo sia un'anima totale cosa che sostanzialmente è il problema è che il diavolo ha fatto le pentole ma non i coperchi e quello che succede è che se vogliamo dare retta al mito e il mito contiene delle verità nella pistis e sofia quello che c'è scritto è chiaro cioè gli arconti cioè i falsi dei creeranno un contenitore dove dovrà entrare la parte animica Eva e la parte animica Eva non vorrà essere succhiata dagli arconti che hanno creato il contenitore proprio per succhiare Eva e allora la parte animica Eva brucerà in un primo istante il contenitore questo è quello che succede all'inizio nella pistis sofia e noi ci siamo trovati di fronte alla comprensione di che cosa voleva dire autocombustione proprio in ipnosi quando avevamo molti casi di addotti che in famiglia avevano problemi di autocombustione casi eclatanti veramente allora in ipnosi veniva fuori che la parte animica nel volersi liberare dell'alieno leggi l'accolte aveva bruciato il contenitore perché voleva bruciare l'alieno voleva in qualche modo opporsi a questa cosa ma siccome non sapeva cosa fare e l'energia lei ce l'ha in abbondanza aveva bruciato anche il povero contenitore che non sapeva come fare poverino ritrovevamo nella pistis sofia quello che avevamo ritrovato nelle ipnosi regressive poi però la pistis sofia che vuol dire coscienza consapevole sostanzialmente aggiunge voi a conti falsi dei non riuscirete nel vostro progetto perché la parte animica vi sconfiggerà e quello che succede è che la parte animica cioè la parte è quella che all'alieno serve acquisisce consapevolezza dell'arconte lo riconosce non come suo padre perché l'arconte si fa riconoscere l'uomo primo in ipnosi si presenta la parte animica come io sono il tuo babbo noi abbiamo fatto un progetto insieme tu hai accettato il patto un patto dell'alleanza per cui questa alleanza mi dice che tu mi devi servire sempre quando la parte animica comprende che questo padrone padre padrone non è suo padre io facevo così prendevo la parte animica la portavo in ipnosi all'inizio del tempo e all'inizio del tempo gli dicevo c'è questo signore questo tizio no non c'è e allora vedi che lui non è il tuo babbo la parte animica lì si commuoveva piangeva e comprendeva di essere stata turlupina beffata e allora con l'uomo primo la parte animica vince perché comprende perché il risultato è comprendere no vincere se te hai una malattia sei malato credi che il bersaglio finale il target finale l'obiettivo finale sia guarire non è così l'obiettivo finale è capire dopo che hai capito guarisci in automatico questo è un argomento che veramente suscita molta molta curiosità poi parleremo anche di un sotto argomento diciamo di questo vorrei proporre un paio di domande del pubblico che le trovo rilevanti rispetto a quello di cui stiamo parlando qualcuno questa è Lorena Laurenti è una persona che ho intervistato anche l'altro giorno è una tua collega come dire una persona che comunque fa cose qualcuno crede visti tanti ritrovamenti egizi ha detto a loro che lo spirito si possa trasformare in anima cosa ne pensa professore no per quanto mi risulta non è così dunque le mie definizioni di anima e di spirito sono definizioni vettoriali cioè la parte animica ha l'asse dell'energia che scende verso il basso l'asse dello spazio ma non ha l'asse del tempo cioè ce l'ha ma sull'asse del tempo non c'è niente la parte animica legge il tempo in modo atemporale come se tutto accadesse in un unico istante la parte spirituale cioè l'asse dell'energia l'asse del tempo ma non ha l'asse dello spazio cioè vive l'universo come se tutti i luoghi fossero un unico luogo sapete la parte maschile e la parte femminile si mostrano così anche negli atti quotidiani quando uno ama l'altro brutto termine l'amore secondo me non esiste e il maschio si rivolge alla femmina e gli dice ti amerò ovunque tu vada mentre la femmina si rivolge al maschio e gli dice ti amerò per sempre ecco ci sono due canoni proprio di vedere l'universo virtuale in due modi completamente diversi uno a temporale e uno a spaziale questo è la femmina e quest'altro è il maschio sostanzialmente nella programmazione neurolinguistica si ha proprio una visione di queste cose normalmente come noi agiamo al di fuori di noi perché noi siamo i creatori e non comprendiamo chi siamo e allora cerchiamo di creare la parte che noi non comprendiamo all'esterno di noi perché speriamo così che estriettandola fuori si capisca meglio sostanzialmente e quindi sono la parte spirituale non avrebbe quantisticamente la possibilità di trasformarsi una parte spirituale che si trasforma in parte animica vorrebbe dire che il maschio si trasforma in femmina questo facciamo trovare la Shlein che non ha capito un cazzo vedete che sto cercando delle domande che erano interessanti però mi scorrono talmente velocemente che poi faccio fatica a ritrovarli certo erano interessanti rispetto a tutto questo puoi chiedere se hanno le sue ipnosi ecco eccola qua questo qua è interessante te 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 si collega in qualche modo poi alla domanda che ti ho fatto prima sulla faccenda agnostica ecco te la leggo una domanda seria per il prof puoi chiedere se nelle sue ipnosi è uscito fuori un discorso di due creazioni separate di cui una più antica no è uscito il discorso di un'unica creazione divisa in due creazioni cioè c'è un'anima di qua e un'anima di là poi che ci siano state all'interno della nostra creazione sotto creazioni quello che gli antichi indiani chiamavano yuga ce ne sono cinque noi saremmo nel quinto yuga ogni creazione diciamo così ogni ogni periodo storico è paragonabile in qualche modo ma non correttamente a una creazione perché c'è stata la distruzione totale e la ricreazione di qualcos'altro questo almeno localmente sul nostro pianeta abbiamo subito cinque creazioni differenti con quattro distruzioni totali nel mito c'è scritto che non ci sarà una quinta distruzione che non ci se il mito ha ragione e se le cose stanno così mi dispiace per i nostri governanti Asura o Deva perché loro già sappiamo che hanno perso hai detto una cosa tempo fa che ha suscitato scandalo ma che poi comunque è stata ripresa da molti da molti ricercatori molti rilevano questa cosa qua nelle loro ricerche questo 80% di uomini senza anima corrado sì quello che viene fuori dall'ipnosi quindi dal mio osservatorio è che l'80% delle persone non hanno parte animica quindi non avendo parte animica non essendo parte animica non hanno non sono oggetto di interesse dell'alieno no? l'alieno di questi non gli hanno interesse perché all'alieno interessa la parte animica perché la parte animica non avendo l'asse del tempo è immortale e l'alieno non vuole fare l'esperienza della morte la rifiuta ne ha paura mentre non ha capito per mancanza di consapevolezza che noi siamo venuti qui per morire per fare l'esperienza della morte perché attraverso l'esperienza della morte si può capire che in questo universo la morte non esiste se no avrai sempre paura di qualcosa e la paura è la separazione la separazione da cosa? dalla consapevolezza che la morte non esiste quindi quello che succede è questa cosa qua ma che dire di più il discorso potrebbe anche finire qui loro sono una sorta di intelligenza coscienza artificiale che no 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 dunque innanzitutto l'intelligenza artificiale non esiste perché intelligenza e artificiale è uno simbolo se sei intelligente non puoi essere artificiale devi essere vivo vero bene questa è una cazzata che ci vogliono far credere ho visto recentemente una fotografia di Elon Musk che si abbraccia a un robot il problema è proprio questo cioè cercare di creare un uomo che non abbia più ragazzi scrivetemi le domande domande secche non domande di pagina domande secche che volete fare al prof così tra poco gliele passiamo ciao Corrado continuiamo pure sì le coscienze artificiali bisogna avere un po' di pazienza questa sera va bene abbiamo ne abbiamo da vendere Corrado ci sai quando ci sai parla pure i messaggi ecco ci siamo quasi ecco vedo i messaggi allora ci sono ci sono non mi ricordo più ovviamente quello che stavo parlavamo parlavamo delle coscienze artificiali dei Elon Musk che è la sua robot questa roba qua sì la coscienza Elon Musk quello che è veramente il cosa vuole la coscienza cosa vuole Elon Musk e le persone come loro vogliono dividerci totalmente perché noi non si acquisiscono consapevolezza di noi cioè non si sappia che noi si sia un'anima e uno spirito che si devono riunire e allora come si fa noi di solito vediamo io come maschio vedo una donna una femmina all'esterno e non ho capito solitamente che la parte femminile è la rappresentazione della parte animica che io ho di cui io non sono consapevole quindi mi rapporto con la parte femminile esterna che mi deve servire a comprendere la mia parte femminile interna quindi a cosa serve l'intelligenza artificiale perché io poi trovi un robot con cui possa fare l'amore cioè un robot che non mi dirà non riuscirà a farmi capire esattamente chi è la mia parte femminile quindi fare quella quella specie di atto misterioso che la gente su questo pianeta chiama erroneamente amore e che in realtà è la definizione di un atto sessuale alla fine senza avere di fronte a me la parte che io stesso ho creato cioè la mia parte femminile non mi permetterà più di comprendere chi io in realtà sono questo è il vero scopo dell'intelligenza artificiale creare un robot con il quale avere degli amplessi sessuali così io sarò totalmente isolato dall'esterno dell'universo e non comprenderò mai più che cosa succede questa è l'energia il vero scopo dell'intelligenza artificiale che non è un'intelligenza artificiale che è solamente un surrogato che io deleghi una macchina ecco creare una macchina che serva a prendersi la responsabilità dei miei fallimenti i miei fallimenti li devo prendere sulle mie sulle mie spalle sono io che sono responsabile di tutto quello che succede perché io sono membro di questo universo è chiaro che un cattolico preferisce pensare che dipenda tutto dal diavolo invece no dipende tutto da te quindi rimboccati le maniche e lavorare su questo piano perché se no la coscienza non la acquisiremo mai ok adesso abbiamo un paio di domande che la gente vuole assolutamente chiederti la terra piatta Corrado come mai rifiuti prioristicamente addirittura ti chiedono il dibattito su questo aspetta che lo trovo ve l'ho già fatta 60 volte questa domanda trovavo il momento per farlo sì sì per carità io non è che rifiuto rifiuto il dibattito io non ho rifiuto niente chiedono se lei sarebbe aperta un confronto ecco sostanzialmente prof sì ma io faccio a confrontarmi con un cretino cioè che senso ha cioè se il cretino è stato a scuola non ha capito niente non ha studiato la forza di gravità non ha studiato cos'è l'universo non sa che che natura ha non ha capito un cazzo e scrive delle puttanate scientifiche che non hanno un minimo di rigore scientifico io che ci parlo con questi qui cioè è come dire la terra piatta è come le cose che dice la Meloni cioè ma che senso ha la terra piatta cioè io ci posso anche parlare ma perdo del tempo ma perché io devo perdere del tempo con un cretino che poi il cretino che non sa di essere cretino quando te gli dici che sei un cretino si incazza anche no? giustamente perché dal suo punto di vista dice ma come io ma come io te due più due due per due che fa quattro lo sai perché fa quattro due per due io non dico e guardate che ci sono delle persone e io ne ho conosciute tantissime che hanno fatto l'università che hanno due lauree che sono degli emeriti cretini quindi non è che uno ha studiato di più o ha studiato di meno sono cretini voglio fare un altro esempio dire che la NASA dice tutte puttanate può avere un significato preciso però quando uno ci mette la propria consapevolezza e coscienza scopre che la NASA non dice tutte puttanate dice quasi tutte puttanate ma quel quasi va compreso perché sennò si fanno di tutte le erbe un fascio e allora si perde di credibilità di criticità cosa devo dire forse io non ho la consapevolezza necessaria per affrontare questo problema ma siccome io ho problemi da affrontare ne ho tanoti e il problema della terra piatta mi sembra una delle puttanate più gigantesche dell'universo che sono come quelle di chi si è vaccinato te vado a spiegare il 75% degli italiani che ha fatto una cazzata no 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 ti diranno che no cioè Crosetto è all'ospedale con la miocardite vi rendete conto ma perché ce l'avrà la miocardite vi è venuta quest'idea cosa fai gli spieghi che lui si è fatto delle punturine che non si doveva fare lui ti dirà no mi è venuta la miocardite per caso e allora si tenga il suo caso allora da questo punto di vista quando si ragiona con un un significato una cosa scientifica ecco cosa c'è il terapiatista per cui non si può parlare col terapiatista è la il linguaggio il linguaggio che il terapiatista non conosce cioè all'inizio si deve scegliere che tipo di linguaggio usare cioè cosa vogliamo usare come criterio le coordinate sferiche le coordinate toroidali le coordinate polari dopodiché si comincia a fare un discorso se te non scegli delle coordinate comuni non puoi fare un discorso perché mi parli di coordinate polari e quell'altro sta parlando di coordinate toroidali non vi trovate i conti non tornano il terapiatista non sa neanche che cazzo sono le coordinate ecco allora prima si mettano d'accordo tutti i terapiatisti fra di loro perché ci sono quelli che dicono che la terapiatta gira quelli che la terapiatta si è quelli che la terapiatta è un dom quelli che la terapia prima si mettono d'accordo su loro 400 mili diverse ipotesi di lavoro poi quando fanno un bello scritto me lo danno e io lo leggo e a ogni pum gli rispondo e così si fa prima così io non perdo tempo va bene abbiamo tante domande io vorrei io vorrei che rispondessi a un po' di gente perché naturalmente poi anche la gente ha piacere che tu gli risponda e cerchiamo magari di dare risposte non ti dico di tagliare però allora qua c'è l'amico Pippi che ci dice come possiamo capire chi ha la parte animica e chi no e dunque ci vuole consapevolezza allora innanzitutto ci sono dei segni esterni cioè colui che non è animico ha degli atteggiamenti precisi cioè per esempio è rituale segue sempre le stesse cose le fa tutti i giorni e se te lo fai uscire dalla ritualità lui impazzisce non solo è rituale in questo senso ma ha necessità di compensare la mancanza di coscienza della sua parte animica che non ha con una coscienza del gruppo quindi non solo è rituale ma si unisce a un gruppo per cui la sua identità che lui non ha è l'identità del gruppo cioè non so i i i pdiessini i i i i collezionisti di franco bolli non so gli ebrei i cattolici cioè tutti i metti i metallari il metallaro non sa neanche chi cazzo è e allora che cosa fa usa la consapevolezza del gruppo tutti si vestono di nero tutti con le catene e non parlano ma ascoltano tutti la stessa musica perché attraverso quell'aspetto della cultura si riconoscono in un'unica consapevolezza cioè sono come i cinesi cioè sono come le api cioè sono rituali no? pensate ai cattolici rituali più hai capito più hai consapevolezza di te più tu sai chi sei sei tu che detti le regole non segui le regole del gruppo quindi una persona animica non potrà mai votare pd possiamo ci sei ci sei prof ci sono ci sono possiamo in qualche modo affermare che quelli che senza la parte animica sono come un riempimento come dice Davide che servono qua anche come dire per mantenere un po' il sistema in piedi perché se no come fa a mantenersi in piedi senza gente che obbedisce senza neanche domandarsi che cosa succede eh assolutamente c'è un concetto che è proprio un po' un concetto anche di di chimica che mi è venuto proprio in un'ipnosi perché quando io avevo messo in ipnosi un soggetto e a questo soggetto era venuto fuori questo parassita che si chiamava Lux il quale diceva ma perché io gli ho chiesto ma perché ci sono gente con anima e tanta gente senza anima e il Lux mi risponde perché eh solo così qui si mantiene la situazione stabile quelli senza anima fanno da solvente a quelli con anima ora non usava questa parola ma siccome sono un chimico dico solvente cioè se quelli con anima sono circondati da persone senza anima non si rendono conto che loro sono diversi non si rendono conto che ci sono altri come loro con cui parlare con cui confrontarsi sono separati in un mondo in cui dovremmo essere tutti uniti perché ogni animico è separato dall'altro animico perché è circondato da un gruppo di non animici questo serve a fare in modo che l'animico non riesca a capire la differenza e quindi a comprendere com'è il giochino e quindi a ribellarsi credi reputi che ci siano altri pianeti come noi o siamo il centro in qualche modo dell'universo credi che noi siamo uno dei miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di pianeti in cui ci sono esseri viventi e questi esseri viventi sono caratterizzati da esseri animici e da non esseri animici questo la parte animica li distingue con due nomi gli uomini e gli umani quindi un uomo non è che è un uomo uno fatto come noi un uomo la parte animica dice è uno con la parte animica dentro anche se è un ragno ma se è un ragno con la parte animica dentro è un uomo secondo la parte animica ecco sì io ti volevo chiedere questo allora siccome abbiamo parlato abbiamo un po' accennato della Bibbia quella gli Elohim gli Annunaki erano esseri in carne ed ossa o no secondo te sì carne ed ossa è una parola grossa dunque quando si parla di Annunaki e quindi si conferisce alle opere di Zakaria Sicin che lui le ha scritte nel 1956 negli anni 50 poi sono venute hanno avuto risalto in Europa negli anni 80 a metà degli anni 80 Zakaria Sicin non aveva gli elementi che abbiamo oggi per comprendere le cose quindi quando parlava di Nibiru parlava di una cosa che non può esistere perché un pianeta che abbia un un una ellisse così grossa attorno al sole come orbita prevede che si passi da una temperatura di 300 gradi al giorno a in un'altra stagione a meno 4000 gradi sotto zero cosa che non è possibile perché la vita lì non si può creare quindi c'è questo piccolo problema però Sicin aveva individuato due specie di comandanti che si chiamano Enki ed Enlil sono quelli che io chiamo i deva e gli asura sostanzialmente che poi noi ci siamo resi conto erano gli alieni principali che incontravamo nelle ipnosi regressive come descrizione perché Enlil è un'aquila è un volatile e quello lo trovevamo e così Enki è il serpente e noi lo trovevamo quindi noi ritrovevamo negli addotti di oggi le due divinità antropomorfe sostanzialmente ma che erano gli dei di Zaccaria Sicin quindi questi sono però con il corpo le creature di Shiva e di Visnu Shiva e Visnu hanno diverse creature chi è che governa nel mito poi nel mito c'è scritto tutto è uguale nel mito ci sono sostanzialmente i lux e da una parte il cosiddetto ra che sono esseri senza corpo uno vestito di luce e l'altro vestito di nero perché sostanzialmente non ha corpo ma che sta nell'altro universo nell'universo di antiluce e il nostro cervello che è un lettore di ologramma che legge ad archetipi queste cose vede uno luminoso e l'altro boom ma è non è che sono così è che il nostro cervello per poterseli immaginare in qualche modo dargli una forma gli ha dato questa forma archetipale i due dei che ancora fanno la guerra prof si è frizzato un momento ragazzi va bene io ho chiesto di fare le domande però se ne fate 60.000 io non riesco poi a proporle al prof perché sono troppe io ci sono bene prof allora secondo te che cosa che cosa ne pensi di mettere figli al mondo in questo futuro perché non so se mi sentite ci sei prof ci sei guarda che te lo scrivo abbiamo avuto tante interruzioni questa sera beh vabbè però abbiamo anche dovuto pensare la parte mia perché io ho le fibra tutti che abbiamo detto anche tanto sì ci sono ci sono ci sei prof tranquillo allora senti un po' posso chiacchierare ecco questa è una domanda molto interessante che va bene i due i deva e di asura che fanno la lotta per la parte animica per avere l'amrita per avere il nettare della vita per essere sostanzialmente quello che sono gli dei tecnologici di oggi cioè gli enchi e gli enlil di oggi il serpentone l'alieno serpente e l'alieno ra l'uccello che viene sostanzialmente da una delle stelle di di orione al nitac che è proprio la prima stella della fascia di orione e che è quella stella della fascia di orione che rientra nella mitologia egizia per cui anche gli egizi se uno va a vedere bene le loro storie avevano in qualche modo la storia di questi dei che in qualche modo avevano influenzato la storia degli egizi l'ottanta per cento che abbiamo detto di questi non animici cosa gli succede a loro? si rincarnano? che fine fanno? ma questa non è una risposta facile quando si è presi alla parte animica ma come mai ci sono esseri senza parte animica da dove vengono? e mi ricordo ancora come se fosse ora anche la persona che era sotto i prosi mi disse ah non lo so dove vengono questi noi veniamo da un'altra parte questi vengono da un'altra parte non lo sappiamo da dove vengono quindi però questo non vuol dire niente perché la parte animica è poco consapevole di sé soprattutto negli addotti e quindi questa poteva essere una risposta poco coscienziale in realtà le cose secondo me secondo me sempre sono diverse tutti gli esseri hanno parte animica sono parte animica ma alcune di queste parti animiche non sono scese su questo piano diciamo che sono state trattenute di sopra per alimentare quelli che stanno al piano di sopra cioè gli esseri del piano di sopra gli angeli del piano di sopra non hanno tutti il coraggio di scendere di fare l'esperienza della vita e della morte e quindi non vogliono che le loro parti animiche scendano per fare questa esperienza solo alcune solo i più coraggiosi solo noi che siamo qui abbiamo deciso di fare questa esperienza quindi in realtà ognuno di noi rappresenta un contenitore i contenitori vuoti in realtà sono come posteggi di automobili vuote ma le automobili ci sono in giro solo che il posteggio è vuoto quello che succede nell'universo e nel tempo è che tutti devono scendere tutti devono fare questa esperienza anche quelli che non la vogliono fare quindi ci sarà un giorno in cui tutti saranno animici e così ci saremmo liberati dei nostri governanti nel senso che i nostri governanti saranno diventati persone intelligenti e qua c'è una domanda che è apparsa che anche io ti voglio fare infatti me l'ho segnata perché vorrei capire sapere cosa ne pensi di Tartaria di questi reset che insomma guardate premetto subito io di Tartaria non mi sono mai interessato perché non ho avuto tempo e mi sembrava che non ne valesse la pena però ho un sospetto quindi ho un sospetto prendetela così non è detto che sia vero ho un sospetto Tartaria è come la terra piatta cioè ogni tanto i servizi segreti mettono in atto un progetto di questo tipo per misurare la stupidità delle persone dopodiché c'è il vaccino quindi io ho questa idea magari non è vero però prima di fare un vaccino vediamo se la gente capisce o no se non capisce lo capiamo con la terra piatta lo capiamo con Tartaria sì sì la gente non capisce vai con un altro vaccino va bene insomma però va bene dai non voglio aprire polemiche perché poi no no per carità ma io ti ho detto quella è la mia ipotesi poi tutte le prove tutte le cose sì l'ho visto sì l'ho visto sono pronto a ricredermi domani ma non c'è nulla di quello che hai visto che ti fa in qualche modo sospettare che abbiano abbattuto interessevità molto recentemente a chissà quale non la no no c'era una domanda prima ma ora io non la trovo più a parte che passo questa che anche questa è da stamattina cioè da l'ora che ci chiede di fartelo ti volevo chiedere che cosa ne pensi di fare figli nel mondo attuale per carità siamo già 8 miliardi e mezzo allora il problema di fare figli è un problema di consapevolezza questo che cosa vuol dire che un uomo e una donna si mettono insieme e faranno un figlio perché ciò accade ciò accade perché noi nella nostra vita non riusciremo a comprendere tutto quello che dobbiamo comprendere e quindi è necessario da un punto di vista entropico costruire altri contenitori in cui la nostra parte animica riciclata potrà rientrare e terminare il percorso che non ha cominciato che non ha terminato nell'istante in cui noi abbiamo compreso non abbiamo più bisogno di fare figli nell'istante in cui noi si comprende la nostra vita si allunga e diventiamo sterili questo dice il secondo principio della termodinamica e poi c'è il problema della situazione organica ora siamo 8 miliardi e mezzo di persone stiamo andando verso una ennesima guerra globale aspettiamo che si siano calmate le acque cioè non è necessario mettere al mondo persone che vivranno una vita di merda si io capisco che bisogna fare l'esperienza della vita di merda e bisogna fare questa esperienza proprio perché noi con tutto quello che sta succedendo che è il riflesso della nostra consapevolezza non abbiamo capito niente quindi se non abbiamo capito niente c'è la motivazione perché dobbiamo fare una vita di merda perché attraverso l'esperienza della vita di merda dobbiamo capire questo è un aspetto fondamentale e quando noi vediamo per esempio il nostro pianeta che si ribella contro di noi che ci sono dei tornado dove non ci sono mai stati del mondo che si apre in due mi aspetto da un giorno all'altro la faglia di San Francisco che si apre in due e che ci tolga dalle palle un problema fondamentale che sono gli Stati Uniti d'America così non avremo più tutte le guerre che abbiamo avuto in questa storia senza di loro funzionerà così perché l'uomo non ci pensa ci pensa l'entropia poi non c'è problema ecco a questo punto ci dobbiamo chiedere ma perché il mondo si ribella a noi sì perché il mondo è la rappresentazione dei noi esterni quindi meno noi si capisce e più il mondo si agita per farti capire che te non hai capito quindi non dobbiamo dare la colpa al clima alle scie chimiche al non so bene che cosa perché noi siamo le scie chimiche noi siamo la CO2 che sta aumentando la temperatura tutte queste cazzate che dicono che hanno poco senso anche scientifico noi creiamo il mondo la stanza in cui siamo noi creiamo questa stanza esiste perché ci sono io questa è una cosa che mi ha fatto capire un'ipnosi profonda in cui mi ricordo ora una parte animica a cui io chiedo tu dove abiti e la risposta è stata incredibile è stata una risposta quantistica ma io non abito io esisto questo mi faceva capire una cosa fondamentale che quando si parla di orbitali atomici e si dice dentro questo orbitale atomico c'è un elettrone le cose non stanno così l'elettrone l'orbitale esiste perché c'è l'elettrone perché se non ci fosse l'elettrone non ci sarebbe l'orbitale cioè la casa in cui io abito sono io ecco grazie Corrado altra domanda era sulla geometria sacra più che altro cosa pensi della geometria sacra allora dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto allora la geometria sacra è sicuramente qualcosa di estremamente importante che noi abbiamo dentro perché noi siamo i creatori dell'universo quindi noi comprendiamo che attraverso alcune forme ci sono quei pattern che noi chiamiamo sacri semplicemente perché gli diamo questa accezione ma dentro la parola sacro c'è la natura dell'universo che per chi non ha capito si sta parlando di Dio ma siccome Dio siamo noi non sappiamo dare una identificazione alla parola sacra ma qualcosa che ci fa capire e questo l'aveva capito Platone ma prima di lui sicuramente qualcun altro di cui la storia non ricorda Platone parlava dei solidi geometrici e diceva che ogni solido geometrico il cubo la sfera il tetraedro erano tutte il dodecaedro erano cose che rappresentavano qualcosa dell'universo e in effetti noi ritroviamo questa geometria sacra con i numeri sacri i numeri sacri sono pi greco sezione aurea il numero di nepero o di eulero che dir si voglia il famoso 432 che non è 432 ma 431.8588 e che non ha niente a che fare col 432 ma questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano sono tutti numeri irrazionali e non solo irrazionali ma sono numeri trascendenti cioè trascendono la comprensione umana perché noi in questa realtà duale non ci ricordiamo che noi abbiamo creato l'universo con quelle misure lì che sono numeri che a noi ci sembrano a caso ma in realtà sono numeri precisi che descrivano tutto l'universo e la geometria sacra al di là delle forme è fatta con quei numeri e noi inconsapevolmente riconosciamo in quelle forme qualcosa che dentro di noi ci risuona e questo è l'aspetto della geometria sacra come qualcuno che parla della numerologia dicendo la numerologia è una cazzata no la numerologia è una cazzata se fatta da coglioni non è una cazzata per niente la numerologia è molto interessante infatti ora ho un paio di domande poi su questo bene ti spremo stasera prof no per carità per carità cioè la numerologia è lo studio del significato del numero quindi è un po' come l'oroscopo si dice l'oroscopo è una cazzata certo se ti vai a vedere l'oroscopo di novella 2000 è una cazzata ma l'oroscopo è la rappresentazione geometrica e simbolica di posizioni di oggetti nello spazio e questa è una rappresentazione ideica e simbolica archetipale che dentro di te ti dà una risposta è un po' come il tentativo di comprendere i crop circle i crop sono quelle strutture cerchi nel grano che nessuno ci ha capito niente ci sono i falsi i veri falsi e i falsi veri ma al di là di tutto sono strutture simboliche e quindi il linguaggio del simbolismo si comprende solo attraverso la coscienza non si comprende attraverso la matematica che è un linguaggio attraverso il sentire che dentro quella visione di quella forma geometrica c'è una informazione è l'informazione che te puoi prendere guardando un cerchio guardando un triangolo guardando un quadrato e in queste tre figure qualcuna ti piacerà di più qualcuna ti piacerà di meno ma te non comprendi perché e invece il triangolo il quadrato e il cerchio sono la rappresentazione simbolica bidimensionale della parte animica della parte spirituale e della parte mentale è tutto un linguaggio simbolico e il simbolo ha un significato fondamentale perché il simbolon vuol dire quella parte di due parti quando il simbolo viene compreso quando quella parte si unisce alla seconda parte e tutto diventa unito pensate quando la coscienza A e la coscienza B si uniscono insieme i due simboli ritrovano la consapevolezza dell'essere scusa però mi è venuto da ridere non per quello che stavi dicendo a te qualcuno ha chiesto cosa ne pensi della pizza margherita la pizza margherita perché rotonda no perché la pizza margherita allora c'è una storia sulla pizza margherita c'è un mio amico che è andato a vivere in Svezia e per un certo periodo di tempo ha fatto il pizzaiolo e quindi vendeva le pizze rotonde agli svedesi i quali erano contenti quando ha deciso di mettere in allargare la ditta ha cominciato a fare perché tornava meglio nelle teglie fare le pizze quadrate e ha scoperto che non gliele comprava più nessuno perché gli svedesi pensano che la pizza sia rotonda se la pizza è quadrata non è la pizza questo ti fa capire come funzionano i neuroni degli svedesi grazie prof sì volevo farti questa domanda qua rispetto all'astrologia rispetto agli astri l'influenza degli astri chi ha messo gli astri lì o se ci sono finiti e come vengono dette allora si reputa che durante la reincarnazione si stipuli in qualche modo degli accordi con gli arconti o chi per loro insomma con quelli che gestiscono un po' questa trama della reincarnazione e si possa in qualche modo contrattare la carta astrale in qualche modo tu reputi che sia così e reputi che una volta che siamo qua grazie alla facciamo diciamo astrologia inversa possiamo arrivare a capire veramente dove ci siamo messi e perché forse la domanda l'ho fatta un po' contordo no no sì può essere un po' contordo ma la domanda mi sembra chiara no io direi che non è così spero che non sia così perché fare dei patti con gli arconti vuol dire fare il patto col diavolo quindi io eviterei persone che fanno i patti con gli arconti io la vedo molto più semplicemente vogliamo parlare di numerologia dunque c'è una equazione che si chiama di Bode Titus mi sembra se l'ho pronunciato bene che è un'equazione del 1800 che mette in relazione il numero dei pianeti cioè la sua posizione il primo il secondo il terzo il quarto con la lunghezza in unità in unità come si dice celesti c'è un modo per dirlo più preciso cioè in lunghezza sostanzialmente c'è una relazione cioè il pianeta numero 3 deve stare a quella distanza lì il pianeta numero 4 deve stare a quella distanza lì e così via Titus questa equazione che credo sia stata fatta a metà del 1800 è stata utilizzata dalla NASA addirittura e con questa equazione ci hanno scoperto dei pianeti del nostro sistema solare che noi non sapevamo ci fossero lì ci doveva essere secondo l'equazione un pianeta sono andati a cercarlo e l'hanno trovato benissimo la NASA ha modificato questa equazione l'ha cercato di semplificarla poi l'ha incasinata un altro matematico francese che si chiama Notale che è un matematico molto importante del CNRS francese ha studiato questa equazione e questa equazione sostanzialmente io l'ho rianalizzata ho chiesto al computer di rianalizzarla il computer mi ha dato una sua versione questa versione l'ho modificata in logaritmi duali cioè con base 2 perché me l'aveva data sotto forma di logaritmi in base e e ho modificato alcune cose mantenendo la stessa equazione non cambia nulla solo che i numeri sono diventati diversi ecco questi numeri alla fine l'equazione dipendeva la posizione degli astri che girano attorno al nostro pianeta dipendeva dal famoso 432 come ho detto prima dalla sezione aurea dal numero di nepero questo che cosa vuol dire? vuol dire che l'universo è un frattale olografico che rispetta un pattern preciso che è rispettato e descritto dai numeri dell'universo quindi non c'è nessun patto che noi abbiamo fatto prima o dopo l'universo è costruito così e quindi anche in quel caso quella che era la sensazione che avevano gli antichi esoteristi e poi se ne è impossessata la new age quando parla di il suono degli astri il suono dei corpi celesti la frequenza altro non è che dentro di te sai che c'è qualcosa di quel tipo ma non hai i prerequisiti per capirlo ecco io avevo i prerequisiti per capirlo l'ho calcolato e ti ho dimostrato che sono quelli i numeri veri quindi la musica dei corpi celesti in realtà non è una cosa della new age è una cosa che dipende dal pattern con cui è costruito l'universo olografico sì ci chiedono rispetto alla numerologia di Grabovoi che sembra avere degli effetti sulla realtà dunque Grabovoi è quel tizio che ha studiato gli effetti antigravitazionali degli insetti mi immagino bene non lo so se ha studiato quella cosa degli insetti so che ha fatto delle sequenze numeriche che scrivendole da qualche parte magari in posti in cui li vedi tutti i giorni hanno un effetto sulla realtà di manifestazione ecco non ne ho la più palida idea dovrei vedere bene di che cosa si tratta però parliamo del fatto ci tengo a sottolineare che siamo noi che creiamo l'universo nella nella accezione in cui non abbiamo sollecitazioni esterne che ci portano a creare quel futuro che non è il nostro faccio un esempio più semplice i nostri governanti non sanno creare l'universo perché l'universo bisogna essere animici i nostri governanti solo perché sono tali non hanno parte animica su questo non ci sono dubbi allora i nostri governanti che però sono collegati alla masoneria che è collegata alla forza aliera sanno esattamente che noi siamo i creatori dell'universo allora loro che non possono creare l'universo come vogliono loro il futuro come vogliono loro ce lo fanno creare a noi il futuro che vogliono loro come bombardandoci tutti i giorni con figure con immagini con spettacoli televisivi con spot pubblicitari che fanno vedere quello che noi dovremmo credere che esista così noi lo vediamo un giorno due giorni tre giorni cinque giorni e dopo questa ipnosi collettiva andiamo a letto ci sogniamo questa realtà e la creiamo inconsapevolmente in questo contesto noi saremo i creatori dell'universo però di un universo che non vogliamo noi per questo motivo io ho buttato la televisione dalla finestra tanti anni fa non ne guardi mai 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 neanche per vedere un po' il tempo che tira cosa dice la gente assolutamente assolutamente ho visto però ultimamente alcune persone che mi hanno fatto notare come durante il festival di Sanremo c'erano delle recite di natura sonica ben precisa che quindi io non avendo visto me ne sono strafottuto ma ho detto sì sì eventualmente ci sono perché se ne hai fatto un gran parlare io c'ho anche riso sopra se ne hai fatto un gran parlare ma dove c'è fumo c'è sempre un po' di arrosto sì sì certo sì sì ormai tutti sono con gli occhi puntati su quello che fanno perché siamo diventati un pochino più consapevoli quindi mano mano che passa il tempo ci fregano meno sì è vero prof qua la domanda che comunque hanno tutti in sé come capire se il proprio livello di consapevolezza è sufficiente a non cadere nell'inganno di film io mi sente prof io ci sono prof mi senti mi sento sì grazie allora come si può capire se se il proprio livello di consapevolezza è adeguato a non farsi ingannare nel tunnel di luce come si può capire si può capire solo con la propria consapevolezza allora devo dire questo non è una domanda che si morde la coda quando uno ha fatto il triade color test dinamico flash ha unito le sfere e ha compreso quello che doveva comprendere non ha più dubbi non è che esce dal triade color test e dice chissà mi sarò inventato tutto chissà se è vero se non è vero no sa esattamente che quella cosa lì è così cioè l'acquisizione di consapevolezza è dimostrata dal fatto che tu non ti fai più domande perché qualsiasi domanda tu ti fai la risposta è immediata e non non pensi neanche un istante che possa essere sbagliata se te hai dei dubbi mi sarò liberato dagli alieni chissà speriamo che il triade color test abbia funzionato bene sarò riuscito ecco se te ti fai questa domanda vuol dire che non sei integrato invece sulla quanto riguarda la luna la luna ti ho sentito parlare di luna artificiale luna artificiale sì il problema della luna artificiale nasce alla fine degli anni 60 da due ingegneri aerospaziali russi che sulla rivista sputnik pubblicano un articolo scientifico che dice la luna probabilmente è finta è finta per tanti motivi ci fanno i calcoli e lì si vede allora è interessante vedere quello che dice il cicap il cicap dice ma no l'ha fatto anche con me no il cicap no quella rivista è una rivista scientifica che non conta nulla anzi non è neanche una rivista scientifica e quindi questi due scienziati russi hanno detto sparato cazzate ecco non è vero andate a vedere la rivista scientifica è una rivista scientifica pubblicata scientificamente con i riferi agio con controlli e quindi mi dispiace ma le cose sono così ci sono altri aspetti fondamentali della luna la luna presenta la stessa faccia verso la terra semplicemente perché dentro non è omogenea c'è una parte più pesante che è la parte che riguarda sostanzialmente la faccia che viene sempre mostrata a noi quindi dentro qualcuno ha pensato che ci potesse essere anche un buco cioè da una parte più leggera il fatto che ci sia un buco sarebbe stato anche dimostrato da alcuni articoli della NASA e qui mi diranno ah non si può credere agli articoli della NASA qui ci si potrebbe discutere sopra perché i sismografi che sono stati mandati sulla luna mostrano sostanzialmente che tutte le volte che un corpo cade sulla luna questo fa un gong e le le analisi sismografiche sismologiche non so neanche come si dice dimostrerebbero che dentro c'è un buco c'è un altro aspetto interessante la frequenza di Schumann noi ne parliamo ogni tanto 713 783 tra i 783 agli 8 e 13 hertz circa è una frequenza che dovrebbe essere dice Wikipedia e quindi ci possiamo già mettere a ridere che si tratta di 2000 fulmine al secondo che sulla superficie terrestre cadono e quindi la ionosfera sarebbe una sfera chiusa e che avrebbe una frequenza di risonanza dovuta a questa cosa quindi non si può registrare la frequenza di Schumann al di fuori della ionosfera ebbene c'è un articolo scientifico della NASA che dice che uno dei loro satelliti ha registrato mentre andava sulla luna sostanzialmente verso la luna ha registrato la frequenza di Schumann al di fuori della ionosfera questo vuol dire che la frequenza di Schumann non è una frequenza risonante se poi andiamo a vedere e tutti i giorni lo possiamo vedere i grafici della frequenza di Schumann nei diversi luoghi della Terra e vi posso dire che non è uguale in tutti i luoghi della Terra ma cambia e quindi già non è una frequenza di risonanza se non sarebbe uguale in tutte le parti della Terra questa frequenza scompare quando la Luna è dall'altra parte quando la Luna è davanti c'è questa frequenza quando gira scompare questo vuol dire una sola cosa che la frequenza di Schumann viene dalla Luna e la Luna bombarda la Terra con una frequenza che noi non sappiamo a che cosa serva ma guarda caso potrebbe servire a rompere le palle proprio la frequenza della parte animica mentale e spirituale impedendogli la unificazione ma la mia è un'ipotesi di lavoro ovviamente abbastanza suggestiva ma non la posso provare ancora e l'influsso che ha la Luna in pratiche magiche manifestazione e quant'altro cosa ne pensi di questo? e beh gli antichi non sapevano come spiegare quello che ho spiegato io in questo istante perché non avevano i prerequisiti e quindi la scienza nel mondo antico era la magia e quindi era propiziatorio qualcosa oppure contro dinamico in qualche altra manifestazione c'era qualcosa che poteva essere il grano che doveva essere seminato quando la Luna occupava certe posizioni nel cielo oppure doveva essere raccolto quando la Luna occupava altre posizioni il ciclo mestruale femminile è legato alla Luna vi posso dire che all'interno del movimento della Luna ci sono pensate gli stessi numeri del ciclo circadiano del ciclo come si dice di quelle tre del bioritmo ecco non mi veniva la parola il bioritmo te nasci e dall'istante in cui nasci dice chi ha studiato il bioritmo che sono sostanzialmente tre medici tedeschi e inglesi mi sembra di ricordare che hanno studiato il bioritmo tu nasci partono tre sinusoidi una che è la parte fisica l'altra che è la parte mentale l'altra che è la parte non so bene non sono neanche i nomi questi tre segni che vengono guarda caso archetipalmente descritti come uno verde uno rosso e uno blu hanno le stesse frequenze che io ho ricalcolato della parte che noi abbiamo calcolato parte animica parte mentale parte spirituale pensate sono esatte la parte spirituale la parte mentale e la parte animica invece di essere di 23 giorni è di 24 ma che strano proprio la parte animica cioè la parte del femminile la parte lunare ma sono calcoli precisi come se la luna fosse stata messa lì per influenzare l'essere umano e se noi teniamo presente le antiche leggende che dicevano che una volta la luna non c'era ma c'è stata messa sono leggende e sono leggende che riguardano sia le antiche popolazioni dell'Africa che le antiche popolazioni della Mesopotamia che le antiche popolazioni dell'America precolombiana quindi voglio dire dove c'è fumo c'è sempre un po' sarà vero e purtroppo mi sa proprio di sì anche perché noi non possiamo dire di essere stati sulla luna secondo me io non ci siamo mai stati ne abbiamo prove all'infinito su questo fatto ma sostanzialmente il fatto che la luna si sia staccata dalla terra come dice la scienza oggi in un momento in cui la terra era ancora molto fluida e quasi incandescente ancora non ha non ha veramente grande senso non ha proprio grande senso da nessun punto di vista scientifico proprio proprio nessuno quindi gli antichi invece dicono che prima c'era una luna più piccola che è cascata proprio perché una luna più grande è entrata in orbita attorno alla terra e la luna più piccola si è destabilizzata nella sua orbita abbiamo ancora un paio di domande sulla luna ma te le faccio dopo perché voglio rispondere a Beppe Mangini che come è fatta la fonte Corrado ciao Giuseppe ciao Beppe ma questa domanda io non posso rispondere dovrei rispondere la fonte siamo noi basta guardarsi dentro per tornare a comprendere chi siamo facciamo il triade color test dinamico flash unifichiamo tutto nella coscienza unificante e chiediamo alla coscienza ognuno di noi come è fatta la fonte e la risposta sarà incredibile io la so qual è la risposta però fatela voi questa cosa e poi confrontatevi otterrete la stessa risposta torniamo sulla luna qualcuno dice sarà una non risposta ma ottenetela voi qualcuno ha la sensazione che sia stata messa per stabilizzare la terra ma è artificiale e abbiamo Paola che ti chiede se la luna è finta fosse finta perché la magia lunare funziona non ho la più palida idea di cosa sia la magia lunare quindi non posso rispondere ok mentre invece riguardo alla magia in generale che cosa cosa ne pensi dunque il tanto tempo fa esisteva la politica Re Artù Re Artù era il politico di turno e poi c'era Mago Merlino che era lo scienziato di turno e Mago Merlino incarnava la scienza e la religione perché lui era lo scienziato di turno ma era anche colui che parlava con le forze spirituali dell'universo la natura e così via il politico ha visto che l'unificazione tra scienza e religione era troppo pericolosa per lui e ha diviso la scienza dalla religione che da quel momento hanno fatto due percorsi antagonisti diversi ma che oggi non si ricordano più di essere partiti dallo stesso punto la magia è quello che è la somma di scienza e di religione lo sciamano scienziato è quello che comprende l'universo non puoi essere solo scienziato se non comprendi anche le forze del lobo destro del cervello cioè la parte animica e non puoi essere solo sciamano se non conosci la fisica quantistica non c'è niente da fare devi essere tutte e due le cose quindi devi essere spirito e anima quello che fa i calcoli è quello che sa che le cose sono così perché lo sente e ecco che la magia è la rappresentazione e nel mito c'è scritto nel mito di re Artù e di mago Merlino c'è scritto di quello che noi siamo quando siamo coscienza noi siamo non scienziati no no divinatori con le carte noi siamo coloro che sanno chi chi sono e quindi siamo magi i magi di noi stessi e possiamo creare l'universo attorno a noi come vogliamo possiamo guarirci di una malattia se siamo malati possiamo creare la realtà perché la realtà è una nostra creazione e quindi comprendendo questo noi lo possiamo ricordandoci chi siamo rifarlo quindi la magia è la cosa più alta che esiste al di là della scienza c'è la magia potrei fare degli esempi cioè io ho creato le mie reazioni di chimica organica che ho pubblicato su alcuni giornali scientifici nel mondo con la magia quando non mi veniva una reazione e avevamo già perso mesi nel tentativo di comprendere il meccanismo di questa reazione io me la sono sognata di notte e quando sono andato a dire il giorno dopo alla laureanda guarda la reazione mi ha fatta così 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 e così non era mai venuta quel giorno è venuta la reazione perché io dentro di me che sono il creatore dell'universo sapevo come fare la reazione dovevo ascoltare me stesso dovevo lasciar perdere solo la razionalità perché con la razionalità da sola non si arriva da nessuna parte te devi cominciare a credere alle sensazioni che hai quello lì mi sta antipatico non so come mai eppure bisogna siccome non lo conosco bisogna dargli fiducia perché magari dipende da me stai tranquillo se hai sentito quella sensazione quello lì prima o poi si rivela un figlio di puttana corrando sì ho ancora solo un paio di domande bene sei stanco per andare no no diciamo andiamo avanti dai c'ho il cane che abbaglia i visci evviva è poverino lasciamolo abbagliare che gli fa bene io ho un paio di domande le persone ne hanno a non finire veramente però io non ti voglio neanche far pentire io ti volevo chiedere su Gesù Gesù è Joshua Krishna cioè Gesù Cristo la nonna rappresentazione di Visnu cioè Gesù non è mai esistito o meglio ne è esistito un avatar un simbolo Gesù è allora bisogna comprendere che Joshua Krishna è una figura mitologica di cui la storia degli ebraica eccoci eccoci allora la storia ebraica storia religiosa ebraica è un rimaneggiamento della storia religiosa egizia e questa la storia egizia è un rimaneggiamento di la storia religiosa della Mesopotamia che è un rimaneggiamento della storia della valle dell'Indo benissimo quindi Gesù Cristo è la rappresentazione di Horus sostanzialmente cioè il figlio di Iside e di Osiride adorato dalle dodici costellazioni invece dei dodici apostoli del cielo che si vedeva allora nasce ovviamente anche lui il 24 dicembre e sconfigge i cattivi e fa tutto quello che tutti questi personaggi ce ne sono almeno dieci dodici di Gesù nelle diverse mitologie che noi abbiamo solamente nella nella Europa in Africa in India e così via perché ci sono anche dei Gesù precolombiani che sono stati studiati ovviamente dagli storici americani allora questa è una figura che essendo presente come storia in tutte le parti del mondo non è una leggenda come qualcuno può pensare unificata unificatrice è dovuta al fatto quindi c'è un solo popolo con una sola leggenda poi i popoli si staccano tra di loro e queste leggende vengono portate da tutte le parti del mondo non è così si può dimostrare facilmente che non è così c'è però una popolazione che ha immesso nelle diverse storie dei diversi popoli colonizzati la stessa leggenda questo popolo è il popolo atlantideo il quale uscendo dall'antartide e andando a colonizzare quasi tutte le parti del mondo ha portato con sé oltre che alcuni aspetti tecnologici come la costruzione delle piramidi ha portato con sé anche questa leggenda perché come ha portato con sé la lingua che ha insegnato a tutti quei pecorari che ha incontrato sia in America Latina che in Cina perché gli serviva a parlare con i pecorari perché i pecorari erano carne da cannone che serviva a costruire le piramidi perché loro non si sporcavano le mani loro erano i comunitanti che facevano vedere che erano gli dèi ecco c'era bisogno di farsi credere dèi c'era bisogno di farsi credere superiori c'era bisogno di dare una storia come la fa la televisione oggi con che ne so la guerra ucraina c'è bisogno di dare una versione la versione che questo popolo di Atlantidei voleva dare era l'idea dell'istinto di colpa cioè instillare l'istinto di colpa in tutte le popolazioni c'è questo Gesù che era il vostro salvatore e voi lo avete ammazzato siete degli stronzi questo è la nascita dell'istinto di colpa è quella lì storicamente nasce lì e così gli antichi dominatori falsi dei Atlantidei che hanno costruito le piramidi in quasi tutte le parti del mondo hanno creato questa leggenda per sottomettere il popolo da un punto di vista psicoanalitico gli è riuscita benissimo va bene hai dato una risposta ultra complessa io avevo una domanda se qualcuno deve aver istruito le parole che vengono attribuite a Gesù qualcuno le deve aver pur dette Corrado certo un'intelligenza artificiale che ha costruito queste parole perché venissero messe in bocca a un personaggio mai esistito perché questo personaggio mai esistito potesse dare l'idea di essere il figlio di Dio quindi che esistessero gli dei e che noi fossimo stati ingrati con gli dei questo aspetto fondamentale è legato anche al mito del paradiso terrestre prendiamo un mito che noi conosciamo tutti il paradiso terrestre c'è Dio che ha creato Adamo ed Eva allora Eva la crea con una parte di Adamo cioè bisogna comprendere una cosa fondamentale che Adamo è un essere androgino quindi l'essere androgino viene diviso in due e si stacca una parte che è il femminile e Dio dice a quello che doveva essere il maschio che in realtà era un essere androgino siccome te sei da solo poverino io sono buono ti voglio vendere un telefonino cioè sostanzialmente ti crea una compagna che te potrai utilizzare potrai utilizzare per i tuoi bisogni Dio maschilista è questo il Dio ebreo perché gli ebrei sono maschilisti non è che ci siano voglio dire se potessero loro ammazzerebbero solo i maschi e le femmine di quelli cattivi le terrebbero così magari le usano per i loro scopi questi sono gli ebrei sostanzialmente benissimo la razza è eletta ma è eletta da chi sono eletti da soli questi vabbè ma questa è un'altra parentesi in realtà le cose e poi succede che Eva cioè la parte animica la parte coscienziale attivata dal serpente che è la rappresentazione della mente mangia del frutto e quindi la consapevolezza ingurgita la consapevolezza del bene e del male cioè della dualità a questo punto Dio caccia Adamo ed Eva le cose non sono andate così questo te la racconta il mito te lo racconta la chiesa perché la chiesa se sei un ignorante io ti spiego che cosa vuol dire il mito il mito vuol dire un'altra cosa Adamo ed Eva a un certo punto decidono di fare l'esperienza della dualità cioè la parte animica e la parte spirituale decidono di scendere su questo livello di conoscenza Adamo ed Eva sono quelli che scappano dal paradiso terrestre se ne vanno e Dio non sa come fare a recuperarli perché Dio li vuole utilizzare li vuole tenere lì perché li vuole succhiare l'energia soprattutto l'energia di Eva bene Adamo ed Eva scappano dal paradiso terrestre e c'è bisogno nel mito di recuperarli e quindi Dio si inventa e la religione cattolica lo stesso i cristiani si inventano che Dio attraverso Gesù Cristo ha voluto fare un patto di alleanza la nuova alleanza questo patto è stato scritto e firmato solo da Dio Dio non ha preso l'uomo e gli ha detto firmalo anche te quindi noi abbiamo non firmato un patto questo patto non esiste questa cosa veniva fuori all'interno dell'ipnosi regressiva chiaramente noi siamo stati turlupinati la parte animica crede di aver sottoscritto un patto che non ha mai firmato quando tu metti la parte animica di fronte a questa consapevolezza e questa coscienza la parte animica dice porca puttana è vero hai ragione ma allora quello mi ha turlupinato l'uomo primo in quel contesto e allora capisce che non c'è nessun patto pensate che noi siamo così vincolati all'idea del patto che è legato ovviamente al fatto che abbiamo ammazzato il nostro salvatore Gesù Cristo che non è mai esistito è come guardate non cambia nulla la guerra in Ucraina è uguale c'è stato Putin che era cattivo e allora noi dobbiamo fare qualcosa per difendere i buoni che sono gli ucraini non è così cioè questa cosa che è questo mito che è stato raccontato dai preti è come la televisione quando ti fa vedere il festival di Sanremo oppure te guardi il telegiornale ti racconta la loro versione va benissimo ma invito tutti a guardare a studiare quello che realmente la storia ci racconta e questo si può fare solo se uno ha consapevolezza di sé perché se come il 75% degli italiani delegano qualcun altro a togliergli le castagne dal fuoco non usciremo di qui non c'è nessun problema io non ho nessun problema perché io di qui ci sono già uscito ci esco tutti i giorni ma qualcun altro che io incontro sull'autobus qui a Pisa tutti i giorni c'ha sempre almeno due mascherine una sopra l'altra e respira malamente e poi come crosetto magari viene la mia cardina e che ci vuoi fare? Prof molti stanno facendo il nome di Biglino così in vari modi lo leggo nei commenti allora io vi reputo i più grandi in Italia tu e Biglino siete più grandi hai stima di questo tuo collega? Dunque io devo dire che non ho né stima né antistima di nessuno perché sarebbe una cosa duale ho poco a che vedere con Biglino devo dire la verità la gente mi accomuna a Biglino perché tutti e due in qualche modo cerchiamo di portare forse credo di interpretare così una realtà una visione della realtà diversa da quella che è la realtà che ci danno da bere da mangiare tutti quanti va bene però devo dire che io non sono mai stato massone devo dire che io non ho mai fatto niente per i soldi devo dire che io non sono mai stato condannato a 12 anni di galera devo dire tutta un'altra serie di cose che non mi permettono di essere accomunato a Biglino a buon intendito o poche parole va bene stasera non hai risparmiato nessuno ma io ho detto guardate che questa è la mia mappa del territorio io potrei aver sbagliato non prendete però l'ho colato quello che dico va bene siete un po' ma là Corrado io vi voglio bene a tutti e due sia a te che a Biglino a me non mi interessa che cosa ha fatto no io li voglio bene così come persone è un grande è un grande no avete ragione ma io è un grande avete ragione tu ti posso sbagliare mica ti devo convincere che è bravo io ti dico la mia per me Biglino è un grande vi voglio molto bene avete ragione il problema è che io non voglio bene a nessuno va bene ti volevo fare l'ultima domanda per concludere puoi anche metterci un minuto se vuoi così che cosa ci aspetta nel prossimo futuro Corrado come la vedi ma io sono sono da una parte sono fiducioso perché se devo credere nel secondo principio della termodinamica quello dice finirà tutto bene finirà tutto bene poi se nel mezzo c'è un casino questo io purtroppo lo posso in parte prevedere ci saranno anni duri anni in cui la gente che non capisce dovrà capire a forza e capire a forza vuol dire anche soffrire tanto perché se tu non capisci dopo te ricapita cioè te pensa per esempio alle persone che non hanno capito un'esperienza quell'esperienza gli ricapita te pensa per esempio a un maschio che si separa dalla propria compagna mi dicono che si dice separa io dico separa alla propria compagna e e se ne prende un'altra se non ha acquisito consapevolezza di sé se ne prende un'altra uguale alla prima e funziona così e ti ricapita e ti ricapita e ti ricapita fino a che te non hai capito che quello che stai creando all'esterno è qualcosa che ti deve far capire che te stai sbagliando qualcosa ecco allora il 75% delle persone che si sono fatte quella puntura devono capire che hanno fatto una cazzata non gli si è spiegato loro non l'hanno capito e ora fanno finta di niente e no lo devono capire con la consapevolezza e la coscienza se no invece di una puntura la prossima volta ci sarà un'altra cosa un'altra cosa che sarà anche molto più dolorosa perché funziona così ma prima ma quello che dice il secondo principio della termodinamica è chiaro tutto finisce bene allora una delle cose che io non ho ancora non sono ancora riuscito a metabolizzare e questo si vede anche da come parlo e da quello che dico è vedo ancora non con sufficiente distacco alcuni aspetti della realtà virtuale cioè non mi sono ancora abituato e rassegnato a confrontarmi con i cretini non ce la posso fare cioè probabilmente mi dovrò reincarnare altri 4 milioni di volte perché non ce la posso fare cioè ora come ora mi sembra di non non ho gli strumenti per per farcela non ce la posso fare e allora io capisco questa mia debolezza quando viene un che ne so un Magnani che mi dice che tutta la storia del 432 è una cazzata te dici ma perché non ti confronti con lui non ce la posso fare non ce la faccio non 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 riesco che faccio l'ammazzo non si può no allora bisogna che abbia la pazienza di aspettare che tutti capiscano con i loro tempi questa cosa mi crea dello stress eh ovviamente però io sono fiducioso se non è ora fra 3 4 5 10 anni quando la gente sarà morta per strada perché avrà fatto la guerra che conviene a qualcuno perché noi stiamo facendo qui ora una guerra che non è nostra no calpestando anche uno di quei due o tre punti della costituzione italiana che il nostro presidente sbeffeggia dalla mattina alla sera quindi bisogna pensare che noi abbiamo un presidente che sbeffeggia la costituzione italiana no cosa fa la gente 75% delle persone se ne fotte vuoi vedere che quando non ci sono più spaghetti da comprare al supermercato questi si incazzano no come stanno facendo quelli dei trattori gli togli da mangiare e questi si incazzano allora vi muovevate cari trattoristi incazzare prima no ora perché ora potrebbe essere troppo tardi speriamo di no ma potrebbe essere troppo tardi quando la gente in Italia si incazzerà quello che succederà è che non troverà più da mangiare nei supermercati e ci saranno lo ripeto per l'ennesima volta i cararmati per la strada perché il governo non vuole mollare e il governo ti uccide pur di non perdere la poltrona questo è quello che succederà ovviamente i nostri governanti perderanno ma sai quanta gente crepa questa è l'idea che io ho del mio futuro grazie prof hai fatto una strage sei grande sei grandissimo tenete presente che io la mia mappa del territorio è questa non hai detto che sia quella vera non ha nessun senso va bene ma è giusto che sia la tua è giusto che sia la tua che come cioè non vorrei se qualcuno ha qualcosa da ridire sulle cose che dico però mi raccomando motivatela non dite valanga è un coglione penso che hai alzato più di qualche polverone stasera Corrado hai alzato ben più di qualche polverone stasera non è passato nessuno è passato in Danitz Steiner Gesù Ilani Weij Pinocchio noi siamo oltre Steiner persona sicuramente illuminata per quel tempo ma noi siamo oltre ma è chiaro ma per me è chiaro io a me non mi devi convincere se c'è gente che non gli entra in tasto è impossibile fargli entra in tasto l'errore che si fa è questo di credere ancora nella dualità allora credere per esempio che Biden sia cattivo quindi Trump è buono è una cazzata la dualità Trump come Biden sono due stronzi questo va chiaramente detto quindi chi sostiene Trump è uno che non ha capito niente come i Deva e gli Asura cioè Shiva e Vishnu sono due stronzi noi non abbiamo bisogno di dei quindi siccome uno è cattivo che è il diavolo l'altro che è che Dio sarà buono noi ci dobbiamo liberare di questa finta dualità è la terza via quella che ti potrei dire da un punto di vista steineriano che gurgeffiano che torna la terza via è che Shiva e Vishnu fanno la lotta tra di loro si ammazzano tra di loro e quello che alla fine vince è l'uomo che non ha fatto niente è stato solo lì a guardare e con questo possiamo concludere la chiudiamo? si signore va bene Corrado spero di averti ancora qua in futuro se nel frattempo sono ancora vivo volentieri quando vuoi mi puoi scrivere che vuoi venire a parlare vuoi dire qualcosa c'è qualche cosa questa è casa tua puoi venire quando vuoi naturalmente ti ringrazio di cuore ci sono tantissimi spero che ti mando un po' di messaggi di gente che ti saluta si grazie ormai sarai abituato a tutto questo comunque ci saranno anche tanti che vengono a fare in culo giustamente ma io ci vado giustamente è normale non c'è problema è giusto così comunque è giusto così certo certo assolutamente uno che può andare bene a tutti deve essere un cretino non è una persona vera uno che va bene a tutti sei d'accordo su questo? si 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 per andare d'accordo con tutti non puoi essere una persona vera non posso andare d'accordo con tutti è impossibile io basta che vado d'accordo con me esatto grazie prof grazie a tutti a presto grazie prof grazie a tutti alla prossima ciao ciao ciao